Di martedì, arriviamo! Benvenuti, benvenuti di martedì, ospiti in studio, Bonaccini collegato, si comincia da Luca e Paolo tra 60 secondi. Si comincia da Luca e Paolo. Di Meloni, Salvini e Porro, la canzone di Garbatella. Dirige l'orchestra Nicola Porro. Cantano Luca e Paolo, prego maestro. Giorgia di Garbatella, una sfiga vera, pure questo naufragio a primavera. Ma lei per rimanere ritta in sella, a Cutro organizzò la passerella. Con Salvini come accompagnatore, che prova a sgraffinargli l'elettore. E mentre l'auto blu li la trasporta, le tirano i peluche sopra la scorta. Di giornalisti trovi poi un drappello, tu provi a fargli il gesto dell'ombrello. E Mario se chi vuole l'acclamazione, facendo la figura del nannone. Dopo la sera festa e i ritornelli, con successore di quel Toninelli. E come vuoi era bravo a prendere granchi, in quella compagnia di saltimbali. Tutto a te, Floris? Grazie, grazie. Floris, prego, gentili. Grazie, ci assumiamo la responsabilità di quello che stiamo per dire. Esatto. Noi non abbiamo paura delle conseguenze, è giusto che il pubblico sappia cosa pensiamo veramente. Quindi lo diciamo? Lo vogliamo dire a gran voce, eh? Io e Paolo siamo molto contenti di questo governo. Sì, avete sentito, molto contenti. Voi direte, siete contenti per quello che stanno facendo? Oddio, hanno fatto qualcosa? No, tranquillo, non hanno fatto ancora niente. Noi non siamo contenti per ciò che fa questo governo, siamo contenti per come ci tiene compagnia. Ecco, lo diciamolo. Hai presente quando finisci una serie e guardi l'ultimo episodio, ti viene quella tristezza profonda? Allora inizi, sì, un'altra serie, ma sai già che non... Non ti affezionerai mai a personaggi. Ecco, lo pensavamo anche noi quando è stata letta Giorgia Meloni. Ma invece, sono passati pochi mesi e questa serie comica comincia a prenderci. Una febbre. I personaggi minori iniziano a ingranare, la compagnia di giro funziona così bene che hanno cominciato anche la tournée. La prima tappa è stata a Cutro dove si è svolto il Consiglio dei Ministri. Scegliendo Cutro come sede del Consiglio dei Ministri, il governo ha voluto lanciare un messaggio molto forte alle vittime del naufragio. Dire a chi è in difficoltà, se avete bisogno il governo corre da voi. Ma ci mette 15 giorni, come una raccomandata semplice. A onore del vero va detto che l'idea di organizzare incontri politici nei luoghi devastati non è proprio di Berlusconi. Sì, nel 2009 incontrò i leader del G8 all'Aquila. Nel 2014 incontrò Matteo Renzi nella sede del PD, quindi proprio il posto più disastrato. Così a Cutro sono arrivati le quattro cariche più rappresentative del governo. C'è la Meloni italiana, i Piantedosi e Salvini. Erano bellissimi. Tutti e quattro rischierati che bofonchiavano cose incomprensibili. Sembravano i teletubbies. Poi c'è stata la conferenza stampa che per i toni, per l'impegno e per la riflessiva pacatezza a molti ha ricordato... Una riunione di condominio, una cacciara, la Meloni in difficoltà per le domande dei giornalisti e per le risposte di Piantedosi e Salvini. Tanto che alla fine per Matteo Salvini la Meloni ha fatto come i genitori dei bambini piccoli al ristorante. Gli ha dato in mano il cellulare. Lo vedete, guardate. Guarda quello. Così, a me, a me, a me è rimasto il cellulare. Cosa faceva col telefono? Un gioco, non ha scaricato un'app dal titolo Costruisci il ponte sullo stretto. Grazie, toglielo pure, perché tanto va avanti così per l'ora. La meraviglia è che Salvini si è presentato a Cutro con dei fogli sotto braccio, ma per far capire che stava facendo i compiti. Vedete, sulla copertina c'è scritto Ponte, una cosa che neanche in terza media... Guarda, Salvini ha un periodo di grande forma, tanto che bisogna aprire una parentesi e poi torniamo a Cutro. Però è una parentesi importante. Ormai il dubbio è diventato una certezza. I social media manager di Salvini sono dei geni o sono dei disperati? Perché fanno cose incredibili. Floris, noi adesso ti facciamo un esempio. Tranquillo, ti facciamo vedere una foto e tu ci devi dire che cosa vedi nella foto. Ma lo devi dire subito, senza pensarci. Cioè, una foto che ha pubblicato Salvini. Sei pronto? Subito, senza pensare. Subito, eh! Cosa vedi qui? Eh! Eh! Ma sei... Ma sei con... Ma posto... Perché io in sta foto ci vedo... Vabbè, ognuno... Magari, grazie che ha la tolta, perché io... Cioè, rimettila un secondo, scusami, rimettila solo un attimo. Sì? Rimettila solo un attimo. Ecco, Salvini è quello dietro, eh? Ecco, vabbè, 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 basta, basta, basta. Ma torniamo a Cutro. La frase più interessante l'ha pronunciata proprio Giorgio Meloni. Questo governo andrà a cercare gli scafisti in tutto il globo del ragueo. Il problema è che dobbiamo dare due notizie a Giorgia. Pazzesco che gli dobbiamo dare noi. Vabbè. La prima è che se per scafisti si intendono quelli che guidano le barche, non c'è bisogno di dargli la caccia, perché sono lì che guidano le barche. Sono dei disperati uguali a quelli che sono a bordo, li trovano lì che guidano le barche. Se invece per scafisti intende quelli che organizzano i viaggi, non c'è bisogno di cercarli. Sappiamo benissimo chi sono e anche dove sono, però. A volte gli diamo pure dei soldi perché si ritengano gli immigrati. La caccia non c'è bisogno di darla. L'unica ricerca che dovremmo fare è quella delle barche in difficoltà. A quelle dovremmo dare la caccia, però. Eh, diciamola, eh. Ma non contenti le grandi a successo della conferenza stampa, alla sera festona a casa Salvini per i 50 anni del capitano. E qui lì posso dire niente di male, giusto festeggiare. Alla festa c'è anche, vabbè, il karaoke. E vabbè, niente di male, ognuno si diverte un po' come vuole, c'è chi gioca a risico, chi fa le orgi, chi si droga. E poi i peggiori di tutti, quelli che fanno il karaoke. Eh, sono anche quelli, eh. Ma vabbè, però, però, cantano, va bene. Non solo cantano, c'è anche quello che fa il video e lo pubblico. Eh, va bene, pure quello, non siamo ipocriti. Eh, dai, su, a volte pagina, la sera ti rilassi con gli amici. Però, 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 ma dico però, però, se sei stato tutto il giorno a parlare di gente che è affogata in mare, la sera, cosa canti e soprattutto cosa pubblichi, secondo te? La canzone di Marinella, che parla di una che è affogata. Ma sei rincoglionito. Ma sta roba non basta, perché questo è il filmato che abbiamo visto, quello di loro che cantano Marinella. Ma ce n'è un altro che non abbiamo visto, dove pare ci sia Berlusconi che canta... Sapore di mare, sapore di mare, ma non ce l'avete un parente che vi voglia bene, ma come è possibile? Ma scusa, ma già che ci siete, allora, perché non... Un istante al mare e fare il bagno a largo per paura di affogare! Dai, su, naturalmente ci sono state polemiche a non finire, anche troppe. Ma abbiamo pensato, perché è stato pubblicato quel video lì? Perché i tre leader del centro-destra volevano farci sapere che tra di loro non ci sono problemi, che stanno bene insieme. Cioè, fate bene attenzione, le tre persone che in questo momento sono alla guida del paese hanno la stessa strategia di comunicazione... Di Fedez e Chiara Ferragni. Ma come loro! Falli posti in cui dicono che stanno bene insieme, abbracciati. Questo è come siamo ridotti, ma attenzione, non è ancora questo il peggio. Eh, il peggio è passato quasi inosservato, devo dire, perché nei giorni successivi alla strage ci sono stati, come sempre succede, dei minuti di silenzio sui vari campi di calcio. Ma attenzione, questa volta il minuto di salenzio non era di silenzio. Perché dal ministro Abodi, ministro dello sport, è arrivata una postilla, un testo, che andava a letto durante il minuto di silenzio. Che non sarà più quindi silenzioso. Il testo recitava così. L'Italia ce l'avete lì scritto, onora, la memoria, eccetera, eccetera. Ma il finale è bellissimo, guardate il finale. Il governo rinnova il massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità della persona e salvare le vite umane. Un bel marchettone pro-governativo in finale. Ma la storia non finisce qui, perché arriva la vendita, il coni la promuove, l'opposizione, che poi neanche tutta, ma solo l'ex cittadini paravolo berruto, protesta, e allora cosa succede? Arriva un'altra indicazione dal governo. Il testo c'è, ma non leggete. Niente, non mette così, per bellezza, per accompagnare, come la rucola, capito? Ma non è tutto fantastico, non siamo un paese stupendo. Ma il tema dell'immigrazione è spinoso e complesso, è difficile trovare una soluzione. Nessuno ha la verità in tasca. O almeno così pensa, fino a che non è comparso lui. Il nostro nuovo eroe. Angelo Ciocca, guarda lì, euro parlamentare della Lega. Ciocca, nomen omen, affronta il tema con grande capacità analitica e dice una cosa a cui nessuno aveva pensato. Lui dice che trasferire l'Africa in Europa non è possibile. Aspetta, intende forse, ho capito. Ciocca vuol dire che è complicato per i migranti in arrivo dell'Africa sposare la cultura occidentale, c'è un processo difficile di integrazione. Dice che non si può portare la popolazione africana in Europa perché dice, cito lui, la popolazione africana è molto numerosa. Parliamo di 5-6 volte la popolazione europea. Cioè qui, secondo Ciocca, tutti, ma proprio tutti gli africani vogliono venire qua. Cioè forse per lui non è in corso un'emigrazione. È in corso un'evacuazione. Qualcuno in Congo ha tirato l'allarme antincendio e stanno scappando tutti. Tra l'altro, sempre Ciocca, europarlamentare, ricordiamolo, a un certo punto dice, dobbiamo trovare il modo di capire le cause dell'emigrazione. Ah, dobbiamo trovare il modo. In effetti non ci avevo mai pensato, ma questi africani, perché migrano? Ma chissà, magari, sai, lì sotto c'è il sole, senza acqua, con gente che squarta altra gente, s'annoia, no? Diciamo, guarda, stanno squartando il mio vicino, ma io quasi, 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 me ne porto. Oppure per riprodursi. A loro piace accoppiarsi sulle spiagge italiane. Sì, e tra l'altro, poi, dobbiamo trovare il modo di capire, per supponere uno sforzo scientifico gigantesco, tipo, non so, scoprire cosa c'è nel centro della Terra, roba del genere. Ma però, Ciocca, adesso noi lo prendiamo in giro, però lui, intanto, ha la soluzione per fermare gli amigranti. Ce l'ha, ce l'ha. Sì, sì, sì. E là, spot da mandargli sui telefoni. Allora, spiega bene. Ciocca suggerisce di mandare ai emigranti degli spot sul telefono. Tra l'altro, neanche noi. No, no, per non convincere, per non, spiegateli, per spiegargli di non partire, perché l'Italia di adesso non è più l'Italia di 30 anni fa. Però io adesso vi dico la proposta proprio con le parole sue, cioè di Ciocca, è straordinaria. Cittalù. Otto anni fa ho fatto uno spot con migranti integrati in Italia, che nelle varie lingue di appartenenza mettevano in prealerta i loro connazionali. Questo è quello che dice Ciocca. L'ha anche detto, otto anni fa. Cioè, spot che evidentemente non ha funzionato. No, perché degli ultimi ottoni sono arrivati a valanghe. Ma andiamo avanti. Sì, sempre le parole di Ciocca. Questa è sicuramente una strada. Ovviamente spot è un termine improprio. Si potrebbero fare dei filmati che possono essere inviati attraverso i cellulari, però devono essere inviati dai loro connazionali per essere credibili. Cioè, tu devi fare lo spot, però poi glielo deve mandare un suo connazionale sul telefono. Ma come cazzo fa? Ma soprattutto Ciocca non ha capito che i migranti non vogliono venire in Italia. Sbarcano qui, ma poi se ne vanno. Cioè, che in Italia ci sia Ciocca? Loro già lo sapono, infatti vogliono andare da altre parti. Eh, perché qui ci sono i Ciocca. Ciocca che però bisogna dire non è da solo. Qua ogni settimana qualcuno prova a scalzare Salvini dal trono del fantamerda. Questa settimana è il turno di Francesca Caruso, nuovo assessore alla cultura della regione Lombardia. No, finalmente la persona giusto al posto giusto. Caruso infatti ha la cultura perché per ben sette anni è stata assessore alla sicurezza di Gallarate. Che mi direte, cosa c'entra con la cultura? Una minchia fritta. Ma va bene lo stesso, magari Caruso farà benissimo. D'altra parte, quando hanno chiesto a lei cosa c'entrasse con la cultura, lei ha risposto... Mia nonna era la sorella di Fausto Papini. Cosa vuol dire? Ma Fausto Papini, ce lo ricordiamo tutti. Grande sessofonista, io li volevo bene perché faceva i dischi con le fighe in copertina. Ma no, ma tutto lo ricordo così. No, ma le faceva. Era un grandissimo artista. Ho capito, però c'era... Comunque, per fare l'assessore non credo che basti che la nonna fosse la sorella di un musicista. No, se mia nonna era la sorella di Menea non è che posso fare il presidente del CONI. Magari sì, eh. Ma non credo. Questo è il paese delle grandi opportunità. Infatti, comunque, lei domani diventerà ufficialmente assessora. E chi aprirà i lavori della giunta regionale toccherebbe all'eletto più anziano. Tale Feltri Vittorio, che però non lo farà perché ha detto che è una rottura di coglioni. E in effetti deve essere noiosissimo. D'altra parte, un consigliere regionale porta a casa solo 10.500 euro al mese. Non puoi chiedergli di rompersi i coglioni anche a presidere il consiglio. C'è un limite a tutto. Allora, il consiglio andrebbe presiduto dal secondo eletto più anziano. Che è Sgarbi Vittorio. Ma se il primo è Feltri e il secondo è Sgarbi, il terzo eletto più anziano, chi è? Pietro Gamba di Legna. A dopo. A dopo. Luca e Paolo, che torneranno dopo. Avete visto i nostri ospiti. Ma iniziamo salutando Stefano Bonaccini. Buonasera. Buonasera. Ne ho nominato presidente del Partito Democratico. Oltre a essere presidente della regione di Milena Romagna, Nella in questa trasmissione si confronterà con un importante esponente dei Fratelli Italia. Ma intanto ci dica come sta governando Giorgia Meloni. Ci ha colpito una frase della sua ultima conferenza stampa, cartello 11. E Giorgia Meloni ha detto che appena si affronta un problema se ne apre un altro. Non sono stata fortunata. L'ha colpita questa frase? Sì, mi ha colpito perché dare sempre la colpa al fatto o a qualcun altro come stanno facendo significa insicurezza e debolezza. Sarebbe come se io vi fossi lamentato per il terremoto che colpì l'Emilia da 12 miliardi di euro, quella striscia di Emilia, oppure per essere stata la prima regione dopo Wuhan insieme a Lombardia e Veneto per la drammatica pandemia che abbiamo vissuto. Bisogna dare risposte, non trovare giustificazioni. Dovello sta governando molto male. Perché sta governando male? Ecco, perché guardi, i temi dovevano essere fondamentalmente, fondamentalmente quando sono partiti la guerra e l'economia hanno in qualche modo fatto nascere il tema immigrazione o li ha travolti dati i numeri sempre maggiori di questo fenomeno? Eh, ma molto male perché ad esempio sull'immigrazione stanno facendo cose senza dare un criterio, un senso a quello che fanno. Quando per anni dici prima agli italiani o porti chiusi e poi ti trovi a non saper gestire tutto quello che sta accadendo, guerra alle ONG e poi ci ritroviamo dopo un anno che sono più che triplicati gli sbarchi e la gente muore in mare. E faccio un altro esempio. Gli slogan per avere la benzina con le accise tolte e molto bassa e poi ci siamo ritrovati con la benzina più cara d'Europa. Ma soprattutto la cosa che mi colpisce molto sono i tagli alla scuola e alla sanità. Quando il Covid ci avrebbe dovuto insegnare a proposito di tragedie e pandemie che bisognerebbe investire di più sulla sanità territoriale, l'assistenza domiciliare, l'assunzione di medici e infermieri che sono carenti in tutta Italia. Senta Bonaccini, adesso parleremo di tutto questo. Nel PD lei che fa? Compensa la Schlein? No, guardi, noi abbiamo una segretaria, si chiama Elie Schlein, l'hanno deciso gli elettori. Credo però che anche per il largo consenso che ho ricevuto, maggioritario tra gli iscritti, poco meno del 50% tra gli elettori, io ho la responsabilità, il dovere, e credo e spero, insieme a tutti quelli che mi hanno votato, di dare una mano alla neosegretaria Schlein, di togliere le magliette dei tifosi delle primarie, indossare l'unica maglietta che oggi dobbiamo indossare, che è quella del Partito Democratico, perché gli avversari stanno a destra, non dentro di noi. E io, come credo tanti nostri elettori, ho sofferto in questi anni per le troppe divisioni interne al PD, mentre noi dobbiamo lavorare insieme e io mi auguro che sapremo lavorare bene insieme. Allora, Presidente Bonaccini, resti con noi perché sta arrivando un rappresentante Fabio Rampelli del Fratelli Italia con cui si confronterà, noi torniamo sul governo perché tutto fondamentalmente cambia dopo Cutro. Poiché mi pare che le risposte siano state chiare, ok? O perfetto, secondo voi no, e quindi voi state dicendo che c'è stata una volontà. Scusate, scusate, non è un dibattito, non è un dibattito. Non riesco a capire, in che cosa si ritiene? Allora faccio io, provo a capire il problema, ok? Scusa, non è un dibattito, no, sì, no, 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 non puoi fare così però, eh, non è professionale. Certo, ma dopo l'incidente, non prima dell'incidente. Voi dicono anche prima. Abbiamo risposto in Parlamento. Loro partono anche prima. La ricostruzione in Parlamento, posso... Scusate, scusate. Sì, 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 no, 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 scusi, sono io che ho fatto confusione sul prima e sul dopo, ok, ok. Matteo. C'è la ricostruzione che io ho fatto in ben cinque informative in Parlamento. Allora, professoressa Elza Fornero, buonasera, benvenuta. Ora vi presenterò mano a mano tutti gli ospiti. Lei, diciamo, sempre con taglio critico, sempre in autonomia di pensiero, però aveva in qualche modo dato fiducia a Giorgia Meloni e al suo governo. Mi dice, dopo più di cento giorni, alla luce di quello che è successo, cosa pensa del governo della destra, del centro-destra? Beh, sì, a voler usare un termine molto neutro potrei dire che sono alquanto sconcertata. Ed è anche vero che io avevo tutto sommato pensato all'inizio del governo, in particolare con la presentazione della legge di bilancio, che non è soltanto una questione contabile, ma definisce i margini della politica economica e quindi dei soldi che saranno spesi dal governo a favore dei cittadini e delle tasse che il governo pretenderà dai cittadini. Beh, in quella occasione Giorgia Meloni mi aveva, forse per le mie aspettative, ma mi aveva quasi stupito in senso positivo e avevo pensato, beh, è diversa. Magari il fatto di trovarsi a governare le fa assumere un atteggiamento molto più prudente. Devo dire di ricredermi, perché anche in quella legge di bilancio c'erano delle cose molto negative, cioè il primo decreto sui contanti... Ne parleremo professoressa, cerchi di darmi un senso di quello che non le piace più oppure quello... Il riso guardi è, intanto, mancanza di leadership. Lei è a capo di un partito che ha molti elettori dietro e non riesce a tacitare i suoi ministri meno preparati, più, voglio dire, quelli che combinano guai ogni giorno. Questa è mancanza di leadership. L'appello quasi un po' piagnucoloso a dire siamo sfortunati, ma quando mai c'è un governo fortunato in questo paese da decenni? E sono tutti atteggiamenti che mostrano una inadeguatezza di fondo e forse anche dei cattivi consiglieri. Io credo che dovrebbe veramente guardare in se stessa e dire ma come posso liberarmi di alcune persone? Ma chi le ha detto di andare a quella festa dopo ciò che era successo? Ma come si fa? Vuol dire proprio mancanza anche... Perché quella festa, professoressa? Perché la festa? La festa per Salvini? Allora, guardi, io di Salvini ho sempre pensato che quanto a testa potesse averne di più, ma adesso sono anche convinta che ha zero cuore. E cosa vai a festeggiare i suoi 50 anni dopo quello che è successo? Questo non si fa. Direttore di Libero, Alessandro Sallusti, la vedo friggere. Prego, direttore. No, io penso... A me sembra di essere su scherzi a parte, non su di martedì. Perché abbiamo appena sentito il presidente, il neopresidente del PD, pontificare e spiegarci come funziona il mondo. Vorrei ricordare al neopresidente del PD che lui tre mesi fa ha fatto un frontale contro gli italiani, nel senso che il suo partito è stato sconfitto clamorosamente, e che un mese fa ha fatto un frontale anche coi suoi elettori. Quindi a quello che dice il presidente del PD non gli credono né gli italiani né i suoi elettori. Ora avrà modo Fabio Rampelli di ricordarlo, sta arrivando e si confronterà con Bonaccini. Alla dottoressa Fornero, a proposito di leadership, vorrei ricordare che lei ha fatto una riforma delle pensioni che dopo dieci anni siamo ancora qui a cercare di metterci una pezza, perché ha lasciato per strada decine di migliaia di italiani. È disonesto questo e lei lo sa meglio di me, Sallusti. E' disonesto perché i paesi erano in condizioni molto peggiori di quelle a quale. In quanto al cuore, mi faccio finire, in quanto al cuore, durante il suo governo sono morti migliaia di profughi, di clandestini che attraversavano il mare, che nessuno si è mai sognato di mettere sulla sua coscienza. Sono morti anche quando lei comandava, non so se l'è chiaro. Io non ho mai comandato, io ho servito il mio paese. Presidente Pier Ferdinando Casini, ora presenteremo tutti gli ospiti. Allora, l'altro fatto grosso è la Settiana, noi stiamo cercando di capire se c'è, diciamo, uno spostamento del governo non solo sulla adeguatezza a gestire queste situazioni che si conoscevano, tant'è che la campagna elettorale di Giorgia Meloni era Siamo pronti, no? Si sapeva che grandi temi erano la guerra, l'economia, l'immigrazione ne parlavano solo loro a destra, quindi si pensava potesse essere un campo forte. Ma l'altro, diciamo, l'altro tema è quello della sensibilità. Con questa famosa festa ripresa da Nicola Porro, guardiamo le immagini che hanno fatto discutere tutti per arriviamo da lei. Grazie a tutti. Cosa la colpisce, Presidente? No, anzitutto vorrei dire che qua siamo tutti di parte, lo dico a Salustri, di parte anche lui che è direttore di un giornale, siamo di parte noi, io sono eletto nel centro-sinistra, sono all'opposizione del governo, ognuno ha una parte, non è che siamo dei passanti, per cui ciascuno però ha diritto a dire la sua opinione, perché se Bonaccini, a causa del fatto che ha perso il congresso, è interdetto della possibilità di dire qualcosa, francamente mi sembrerebbe un po'. Allora, il tema vero è uno e soltanto uno. Noi abbiamo preso questo tema, l'immigrazione, e ci è servito per fare le campagne elettorali negli ultimi vent'anni. Il governo Meloni sta planando sulla realtà, perché ha fatto una campagna elettorale irreale, dicendo arriviamo noi, questo era il messaggio subluminale, non arriveranno più in Italia. Questo evidentemente, naturalmente, è contraddetto dai fatti. Giorgia Meloni è la stessa che chiedeva di mettere sotto accusa Renzi per una disgrazia drammatica esattamente come è capitata a lei. Io non sono per mettere sotto accusa la Meloni, ma sono per ricordare alla Meloni che adesso, che è planata sulla realtà, capisce la complessità di governare. Perché non ci accorgiamo oggi che c'è una manipolazione dei flussi migratori anche a causa di stati falliti, a cui si aggiunge la Tunisia, o le brigate Wagner che scorazzano in Africa. Sono cose che non li saputano. Loro se ne accorgono oggi, cartello 24, così Salvini, quando una delle spiegazioni era appunto le manovre russe, scusi, se per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l'Italia. Siamo alle comiche. Allora, Fabrizio Guerra, Fratelli Italia, neo-assessore qui nel Lazio ai lavori pubblici. Che pensa? E trasporti, però a parte questo. Mi scusi, e trasporti. Ti chiedo scusa. Ogni volta sbaglio qualcosa. Di mira. Innanzitutto bisogna dire che il governo Meloni ha iniziato il suo lavoro da poche settimane, le parate di 100 giorni. È singolare che si pretenda una risposta così importante per un tema fondamentale, ovviamente che negli ultimi anni crea un gravissimo problema di sicurezza, di ordine pubblico nelle grandi città, ma soprattutto ovviamente per la sventura di queste povere persone, ovviamente che sono morte. Però va detto che queste sciagure ci sono state anche negli anni scorsi. Se mettiamo un numero X, come ha detto il Presidente Casini, sono morte purtroppo nel Mediterraneo 30.000 persone, non sappiamo quante, che poi con i barchini, noi sappiamo quelle ufficiali, però ci sono tanti altri drammi e ovviamente siamo consternati per questo tutti, iniziando ovviamente maggio dagli esponenti del governo fondamentalmente, ma tutte le persone su questo devono riflettere. Poi l'altra cosa è che di queste 30.000 persone numero X, 29.900 sono morte durante i governi di centrosinistra e 100 sono morte in queste ultime settimane. Gravissimo questo fatto. Questi sono i temi di cui abbiamo discusso anche la settimana scorsa. Sto dicendo, è questo è quello che è accaduto. C'è un elemento nuovo che sottolineavano alcuni ospiti e che in qualche modo in questa settimana ci sia questo elemento un po' della confusione, un po' dell'essere rimasti, diciamo rendersi conto... La confusione la vedete voi, è chiaro che non lei come giornalista... No, no, capito, diciamo... Allora guardi, le faccio notare un'altra cosa di cui si è discusa. La sinistra chiaramente sta parlando di questo tema, è giusto che l'opposizione faccia la sua parte. Le faccio un altro esempio, prego. È giusto che l'opposizione e ad esempio gli esponenti ovviamente del Partito Democratico e degli altri partiti facciano critiche al governo. È singolare che si sia alzata questa canea importante dal punto di vista giornalistico e degli organi di stampa in qualche modo vicini al centro-sinistra che dimenticano tutto quello che è successo negli anni scorsi e le sciagure ci sono sempre state. Chiara Pendino, guardi qual è un altro passaggio di questa conferenza stampa, di questa visita a Cutro che ha molto colpito Giorgia Meloni che parla dell'andare o no a trovare i parenti delle vittime o a rendere omaggio alle vittime sulla spiaggia. Guardate. Scusa, non è un dibattito. No, sì. No, no, no. Non puoi fare così però, eh. Non è professionale. Certo, ma dopo l'incidente. Non prima dell'incidente. Voi dicono anche prima. Abbiamo risposto in Parlamento. Loro partono anche. Per la ricostruzione in Parlamento posso... Scusate, scusate. Sì, 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 no, 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 scusi, sono io che ho fatto confusione sul prima e sul dopo. Ok, ok. L'hanno informata male. No, guardi. Perché non è stato invitato il sindaco di Cordona, Presidente? Perché non è andata a fare... Guardi, oggi ho finito adesso. Dopodiché io... Per me possiamo andare tranquillamente. Scusa, scusa, scusa. Chiara Pendino. È un governo inadeguato. Però io vorrei tornare sul punto dell'immigrazione. Cioè, il tema dell'immigrazione, dottor Forrest, è un tema complesso. Noi arriviamo, come diceva il collega Casini, da decenni in cui c'è una contraposizione anche ideologica. E molte parole e pochi fatti. Vorrei tornare su cosa sta facendo questo governo. Allora, noi abbiamo un governo che sta facendo propaganda. I blocchi navali. Non facciamogli partire come se bastasse, non so, immaginare di costruire un muro. È chiaro che si muovono per motivazioni molto più complesse di quello che vengono narrate. E continua, l'abbiamo visto, anche un decreto spot fatto acutro, tardivo, che interviene, attenzione, sugli effetti, non sulle cause dei fussi migratori. E qual è l'effetto? Un fallimento, perché i sbarchi e comunque i numeri degli arrivi sono triplicati. Allora cosa fa, attenzione? Siccome non vuole farlo sapere agli elettori, si inventa l'arma di distrazione di massa. E quindi scopriamo oggi che esiste, ad esempio, questo tema, forse, della Russia, che è un tema che in realtà esiste da anni, no? Il tema di Wagner esiste da anni. E attenzione, qual è il punto? Il punto, e c'è poco da fare così con le mani, direttoressa Allussi, il punto sa qual è. Il punto è che noi oggi dovremmo affrontare questo tema seriamente. Parlare di corridoi umanitari e farli funzionare, perché non funzionano. Aspetti, aspetti, faccio concludere. No, arriveremo al tema delle soluzioni pratiche. No, no, sono due, velocissimo. Corridoi umanitari che funzionino e superamento del regolamento di Dublino, dove, e lo dico a un collega di Fratelli d'Italia, prima si parlava dei telefonini, no? Qua bisogna convincere gli amici di Giorgia Meloni, della destra, a far sì che si possa avere una distribuzione dei migranti che sia obbligatoria. Allora, usino i telefonini per convincere Visegrad, non i migranti a non partire. Questo dovete fare. Il punto è perché non, diciamo, in questo momento il governo non ha la serenità di affrontare questi problemi. Sono immagini che colpiscono. Poi la politica è fatta di sensazioni, anche di immagini che rimangono, tanto quanto sono Giorgia, sono donna, sono cristiana. E poi questo panico che prende in questi momenti. È panico. Quando hai contemporaneamente 28 barche che insieme si muovono a ridosso delle tue coste, hai poco da essere sereno perché hai un dovere, quello di salvare quelle persone. Allora mettetevi d'accordo. È il governo disumano che lascia morire le persone o ne ha salvati 21.000 rispetto, sto triplicando. Allora mettetevi d'accordo. Due. Sta intervenendo sulle cause, sì. I flussi, sì. C'è un decreto che dispone 82.000 ingressi quest'anno, fino a 500.000. Però lo sai, i flussi sono per modo di dire. Sono persone che vengono rimandate e la richiamate. Sono reali e sono veri. Sì, ma sono già qua. La Commissione Europea, a proposito di leadership di chi ascolta e di chi non ci ascolta, dice dopo il naufragio della Libia, mandiamo altre navi in Libia, che è quello che il PD dice ma è più nella vita. Qual è la ricetta del PD? Lo Ius Soli. Voi pensate di risolvere il problema dando indiscriminatamente la cittadinanza a questo? Allora, il dramma dell'immigrazione, che faccio mille parole al Presidente della Repubblica oggi, va visto nella logica europea. Questo governo sta facendo esattamente questo. Umanità accogliendo le persone. Fermezza, perché il reato nell'urbe terraque dovrebbe essere un crimine internazionale, non un reato transnazionale come il riciclaggio e il traffico di stupefacenti. un crimine internazionale riconosciuto da tutti gli stati, secondo i quali se tu porti deliberatamente una persona e sai di poterne cagionare alla morte, tu vai in galera a vita. Allora, Presidente Mule, ora parla l'onorevole Piccolotti, una domanda. Lei dice bene che dovrebbe essere un crimine internazionale, ma non lo è. Quindi quando Giorgia Meloni dice questo... Ma scusami, il primo Stato che ha proposto questo è l'Italia. Sì, ma deve essere seguita tutto il mondo. Ma qualcuno deve cominciare. Allora, comincia Giorgia Meloni così, per risolvere il problema per cui si diceva, erano pronti? Ecco, il globo terraquea. Terraquea, sì. Siamo abituati a un'Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terraquea. Piccolotti. Ma che imbarazzo. Lo dico perché ci vuole una bella faccia di bronzo a dire che il governo si occupa dell'umanità e che il governo prima di tutto vuole salvare le vite umane, dopo che esattamente questo governo ha appena varato un decreto che rende più difficoltosi i salvataggi da parte delle persone. Aspetti tanto, onorevole Giorgia, tocca a lei, ma la lasci parlare, prego. I fatti e non le narrazioni. Ma i fatti ne hanno salvati 1.300 in due... Lasciatela parlare. Un decreto che rende più difficile per le ONG, che lo fanno con i soldi dei cittadini, i soldi privati delle donazioni di chi ha davvero a cuore i migranti, rende più difficile salvare i migranti perché obbligate ad andare in porti sempre più lontani, a spendere più soldi di benzina, a navigare per tantissime ore. In teoria, fare un unico salvataggio, poi tornare indietro e ripartire. Secondo punto, gli scafisti. Ghera, prego, prego, concluda. No, aspetta, la lasci finire? Anche questa è una grande narrazione a cui non corrisponde nessun fatto. Molto spesso vengono arrestati, è la stessa cosa che voleva fare Minniti e che poi è stata un fallimento, dei ragazzi a cui vengono messi in mano dei telefonini e il timone della barca. Ma questi ragazzi non sono i veri scafisti, questi ragazzi sono dei poveracci come tutti gli altri che sono sulla barca, che hanno rischiato la vita e che vengono arrestati e sbattuti in galera. O magari cattivi, terribili, ma sostituibili. E come se metti la pistola nella mano di un ragazzo? Anche se non erano loro. I veri scafisti sono in Libia e molto spesso sono tra le file di quella guardia costiera libica che noi finanziamo per tenere... Allora, ora tocca Ghera, però dobbiamo passare a Antonio Padellaro, se lei è d'accordo. Perché diceva Presidente Casini sta planando sulla realtà? Perché l'approccio sul tema dell'immigrazione da parte di Giorgia Meloni negli anni è stato molto duro, molto netto. Guardate il 104. Muscolare, sicuramente. Quella che abbiamo visto in Italia, 500.000 immigrati in tre anni, è un'invasione pianificata e voluta. Si chiama sostituzione etnica e noi non la consentiremo! L'Italia deve affondare la Sea-Watch, deve demolire la Sea-Watch, deve dare un segnale a tutte le altre navi delle ONG che adesso pensano di poter liberamente venire a portare i migrati clandestini a casa nostra. Io rimango ferma sulla mia posizione. Blocco, navale, allargo delle coste della Libia. Direttore Padellaro. Allora, Giorgia Meloni che abbiamo visto adesso dice delle cose che la Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, non direbbe mai, proprio per le cose che diceva prima Casini, perché ha preso coscienza dei problemi enormi che il tema dell'immigrazione propone. Però bisogna anche dire che con le cose che ha detto, che abbiamo visto adesso, Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. Evidentemente c'è una parte del Paese che ha creduto in buona fede che ci fosse la sostituzione etnica e che ci fossero tutte le altre cose. Comunque questo è il passato. Cerchiamo di guardare il presente e anche possibilmente il futuro prossimo. Ora, è evidente che la complessità del tema dell'immigrazione comporta due aspetti. Il primo è quello della sicurezza, il secondo è quello del soccorso. Sulla sicurezza vedremo, perché insomma è vero, mancano ancora le norme, l'Europa, insomma non diciamo cose che conosciamo a memoria. Il problema ancora, il grande buco nero è quello del soccorso, perché noi, ce lo dirà la magistratura, non abbiamo ancora capito e saputo che cosa è esattamente successo, quella famosa notte, tragica notte a Cutro. E secondo, perché io ho nella testa una frase del Ministro degli Interni di Piantedosi, l'ha detta tante, mi ha detto una frase che mi ha un pochino aperto il cuore a tanti, ha detto no, io forse non dovevo dire che non dovete partire, perché saremo noi che verremo a prendervi, a salvarvi, che è una frase di un'enorme importanza. Ora, abbiamo letto sui giornali di stamattina che, a proposito dell'affondamento, dell'annegamento di 30 persone a largo della Libia, che non so che cosa sia successo, ma dall'Italia hanno risposto di fronte alla ricerca, alla richiesta di aiuto, bye bye. Ora, il bye bye non è, evidentemente sarà stato un funzionario che andrebbe anche individuato, perché insomma queste cose sono gravi, ma il problema qual è? Che ancora sul piano del soccorso siamo al prima di Cutro. Perché si parte da un punto di vista, aspettate perché non dobbiamo dimenticare l'altro tema, giustamente Ghera voleva rispondere, ma l'altro tema che sollevava Elsa Fornero, lei lo poneva come tema di mancanza di leadership in qualche misura, però si può anche porre come tema di classe dirigente, e su una cosa di certo Giorgia Meloni non è fortunata, che questi incidenti alla propria classe dirigente, che possano essere lessicali, che possano essere concettuali, capitano spessissimo. Oggi c'è stato il picco, un dirigente pubblico nominato da Giorgia Meloni e manda al proprio consiglio d'amministrazione una lettera, una lettera in cui cita, guardate noi abbiamo raccolto un bellissimo film di Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, Mussolini, interpretato da Mario Adorf, e rivendica, dato storico, 3 gennaio, di rivendica, credo del 25 posso sbagliare ma ora mi correggeranno, rivendica la responsabilità politica del delitto Matteotti, guardate. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione, è un movimento di banditi e di predoni, si insena la questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia, ma poi o signori quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Come si fa Fabrizio Vera? Innanzitutto, se posso finire la risposta sul tema dell'immigrazione che penso è un tema corgente e fondamentale, adesso non capisco, sembra che siamo sulla, c'era un film fascisti su Marte, adesso c'erano i Piddini su Marte, si continuano a dire la stessa cosa scordando tutto quello che accaduto negli anni precedenti, se oggi il governo... Non parla del 25, non fa riferimento al 1925, non parlo dell'immigrazione, sto dicendo se qualcuno ancora continua a pensare che gli esponenti del governo hanno teorizzato di non fornire soccorso per quello che è accaduto, io penso che c'è solo da vergognarsi, come io, nessun esponente di nessun partito politico ha mai pensato che le sciagure che ci sono state nel passato quando governano la sinistra e sono molto più persone, purtroppo, diciamo ancora, sicuramente non erano state... Giorgia Meloni si è nel 2015, assolutamente no, non ha messo, ma è di stato sulle parole di Giorgia Meloni, cercare di sviluppare un discorso più ampio, è una cosa che assolutamente non è stato, dobbiamo fare un discorso un po' più ampio, perché torneremo sui temi dell'immigrazione, mi dica se c'è un problema di classe dirigente, c'è la inadeguatezza di chi è, prego. Voglio dire, non mi sembra che bisogna andare a chiamare Pico della Mirandola per capire che c'è un problema di inadeguatezza, io non so, veramente, oggi quando ho letto questa lettera mandata da questo signore che io non conosco, ho detto, ma come è possibile, non volevo credere, pensavo fosse uno scherzo, come viene in mente, come viene in mente a una persona normale? Guardi, io ho pensato la stessa cosa, quindi non è che abbiamo tante idee diverse, scusate, da questo punto, ma l'avete scelto voi, assolutamente, non lo conosco personalmente, però guardi, mi fa piacere, ho pensato, forse voleva essere mandato via, si era stancato di fare quello da pochi giorni per essere mandato via, però almeno qualcuno l'ha mandato via, subito, che l'avete scelto voi, l'avete nominato voi, ma è stato subito fatto mandare via, la sinistra, Sandro Sallusti, ma uno che gli viene in mente in una lettera a un consiglio di amministrazione di citare la frase più terribile che durante il fascismo ha detto Mussolini, come è giusto che sia, ma come è stato nominato una persona del genere, c'è un problema, ma come come è stato nominato, se abbiamo un presidente del senato, presidente Casini, che rivendica la presenza di un busto di Mussolini, ma perché lui non dovrebbe citare una lettera, sentiamo Sallusti, Mule, Appendino, Sallusti, la classe dirigente, e anche Fornero naturalmente. Sì, proprio velocissimo su due cose che ho sentito, Chiara Appendino, le ricordo che se la situazione degli immigrati è così è perché voi avete governato negli ultimi cinque anni, non è che... No, scusi, no, no, il governo Meloni ha triplicato i sbagli di corte dei fatti, dottore Sallusti, sia onesto intellettualmente, non i numeri, non i numeri, ma i numeri. E al presidente Casini, che lui oggi parla così, io lo stimo moltissimo, però gli ricordo che lui alcuni anni fa disse che agli scafisti bisogna sparare. Ma, detto questo, veniamo alla domanda. Gli scafisti meritano, gli scafisti, scusi Sallusti, vorrei solo sentire un minuto, gli scafisti non meritano riguardo, i trafficanti ancora meno, il problema vero è che questa è una cosa che in teoria diciamo tutti, in pratica bisogna capire... Le segnalo, le segnalo, le segnalo, le segnalo, presidente... Fate finire Sallusti, fate finire Sallusti... No, scusi, dottor Sallusti, il governo Meloni, 20.000 arrivi, ma dice numeri falsi, 6.000 il governo Draghi, 6.000 il governo Porte, si assume, 6.000 smacchi voi 20.000. Sì, lei, mi prego, mi prego, allora, onorevole Appendino, è un problema, abbassiamo tutto lo studio, è un problema che non si risolve con i numeri, lo so che non le piace che voi abbiate governato il paese e lo abbiate portato in queste condizioni. Ecco, l'onorevole Appendino, in ogni caso sull'immigrazione, Giuseppe Conte nel primo governo Conte cercò una soluzione con Matteo Salvini in pratica, prego, prego Sallusti. Va bene, per quello che io so, a quel signore di cui abbiamo appena parlato, che ha richiamato il Duce, oggi gli è andata bene una cosa, che non ha incrociato Giorgio Meloni, perché quello che io ne so, e lo so, se Giorgio Meloni oggi l'avesse avuto tra le mani l'avrebbe strozzato, cioè a quest'ora avrebbe un Presidente del Consiglio in carcere per omicidio volontario. Detto questo, in tutte le famiglie, anche dei rappresentanti dei partiti presenti, ci sono le pecore nere, quindi nessuno vuole difendere questo signore, ci mancherebbe altro, ognuno si guardi però prima nella sua di casa, ognuno guardi le pecore e le sue, voleva dire una parola a Padellaro, ma poi vi porto su un problema di uno di cui questa maggioranza non si vergogna, ma Nordio. No, su questo tema è fascista, io pongo una questione e lo pongo agli amici della maggioranza, che sono stati scelti dagli elettori, noi abbiamo avuto i governi tecnici che in democrazia sono come degli antibiotici, bisogna prendere il meno possibile, anche se è incerto. Ora, voi non vi sembra, certamente, abusandone se ne fa male, non vi sembra che rispetto alla svolta di Fini a Fiuggi, il fascismo male assoluto, che io credo abbia avuto un grande merito in questo senso, proprio per la destra, non ci sia sostanzialmente un abbassamento di tensione rispetto a questo tema, perché non è un caso che vengano fuori questi episodi uno dietro l'altro. Secondo me questa riflessione, io se fossi in voi la farei, ma ve lo dico proprio in termini di... ma poi se per voi non esiste il problema... Non è che non esiste il problema. Io credo, posso dire, non è che non esiste il problema, il problema c'è, ma purtroppo esiste un problema molto più grande, che è quello che abbiamo sentito anche questa sera, che le risposte che vengono date, le risposte politiche, sono, non tanto in questo studio, sono, è prima allora, ma si può ragionare su è prima allora e voi allora? Io credo che una classe dirigente, mi scusi, che è stata eletta con i voti che ha avuto la Meloni e il consenso abbia il dovere di dire immediatamente noi sul piano del soccorso faremo delle cose molto precise e non semplicemente dire che con noi sono morte 20.000 persone, perché questo è inaccettabile. Allora, passo ulteriore, perdonatemi, una domanda al Presidente Mulè. Abbiamo visto la classe dirigente immediatamente scaricata da tutti, ha ragione Sallustri, cioè immagino la prima che avrà detto ma chi è questo sarà stata Giorgia Meloni. C'è però una classe dirigente di cui invece il centro-destra aveva orgoglioso, il Ministro Nordio che in qualche modo è stato scelto in un'area culturale condivisa dal centro-destra, un'area culturale garantista, è il Ministro che emanerà questo decreto, vediamo il cartello che sostanzialmente aumenta le pene, crea un nuovo reato, proprio il reato di strage in, eccolo qua, il nuovo reato è morte o lesioni durante la traversata fino a 30 anni di reclusione, valido anche in acqua internazionali, qua bisognerebbe avere gli accordi naturalmente con i singoli stati perché non è che possiamo mettere le leggi che riguardano l'America, aumentano le pene, sei anni di pena massima per scafisti fino a 16 anni con aggravanti. Va a lei il problema della cultura di cui lei è anche esponente, la cultura garantista, che Nordio riguardo all'aumento delle pene, alla creazione dei reati, diceva queste cose poco tempo fa. Occorre ridurre le nostre leggi, occorre individuare bene le competenze, occorre semplificare le procedure. Inasprire le pene e creare reati non serve assolutamente a nulla. Io non guardi, sai perché non vedo dicotomia? Perché il reato che è stato creato risponde a un'emergenza sopravvenuta. Allora, all'emergenza sopravvenuta devi dare due risposte, una di tipo umanitario e 1300 persone salvate nel fine settimana dalla Guardia Costiera, a cui non dice grazie l'Italia questo studio, ma lo dice la Commissione Europea in cui oggi si toglie il cappello e dite guardate che ne hanno salvati 1300 dopo e durante Cutro, dopo che c'è la risposta di tipo repressivo con il quale devi dare un segnale chiaro che nessuna tolleranza, è il caso di dire, è ammessa con gli scafisti. Quindi ha un valore politico, dice lei, oltre che tecnico. Dal punto di vista politico, Giorgia Meloni, il centrodestra, ha fatto la sua campagna elettorale anche sull'immigrazione, ma se Roma e Milano, che rappresentano le due più grandi metropoli di questo paese e che vivono la degenerazione di una parte dell'immigrazione, alle elezioni di tre settimane fa premiano in maniera convinta il centrodestra, non vi sovviene il dubbio che forse siete voi che state sbagliando su una linea sbagliata. La prima cosa che trovo davvero dolorosa è la gara a fare i numeri degli sbarchi. Ne sono sbarcati 6.000, ne sono sbarcati 20.000. E sai perché? Perché molti di quei bambini di due, tre anni, cinque anni, ogni volta che li vedo penso a mio figlio e ai nostri figli, erano afghani. E quindi erano bambini che scappavano da una situazione incredibile che ha creato l'Occidente. Prima invadendo in maniera illegale quel paese, bombardandolo, facendo una guerra, e poi abbandonandolo senza curarsi minimamente della sorte delle persone che li abitano. Questi bambini scappavano dall'Afghanistan e noi sappiamo che circa il 90% degli afghani quando passa la selezione per la protezione umanitaria internazionale viene accolta e ha il permesso di soggiorno. Perché sono dovuti venire in quel modo e con quelle barche? Perché non esiste un canale umanitario, legale? Perché non l'avete aperto attraverso cui quei bambini possono venire in Italia? Perché sotto sotto quello che il governo pensa... Avete governato fino a ieri, avete governato vent'anni su... Io non ho governato fino a ieri, guarda, guardi, è importante che lei sappia con chi sta parlando. Lei è nell'invidiabile posizione in cui Giorgia Meloni si trovava fino a pochissimo tempo fa. E' un'opposizione di tutti. La maggioranza c'era di Stato Sinistra, il governo di Sinistra. Che no di alleanza Verdi e Sinistra, lei se lo potrà guardare anche a casa. Beh, è stata sempre in maggioranza col Centrofiso a tutti questi anni. Abbiamo protestato con vemenza contro le scelte diminuiti del PD, abbiamo protestato con vemenza contro i decreti di sicurezza di Conte e Stavini e siamo gli unici che sostengono che questa gara a respingere le persone, a impedire i soccorsi, a creare dei campi di concentramento in tutta l'area del Mediterraneo, è una gara all'inumanità. Allora, professoressa Fornero... Professoressa Fornero, c'è un ultimo tema, perché tutte queste capacità o incapacità probabilmente, drammaticamente, il tema dell'immigrazione a breve scemerà, non ci faremo più attenzione magari. Mentre rimarrà un, diciamo, un momento fisso, che è quello dell'economia. Guardi questo servizio di Andrea Scazzola e poi lo commentiamo, professoressa. E la sta eliminando che facciamo in modo che non pensino all'inflazione. Vengono qui, si divertono, spendono... Inflazione o no, chi può, ancora si concede il massimo. La perla di Marcaspio. Questo storione che si chiama Almas Belluga, che Almas in lingua persiana vuol dire diamante. 12.000 euro al chilo. Ecco la Milano al caviale, che ama trattarsi bene. Ci sono quelli che possono permettersi. Italiani, sì. Lei non ha paura? Possiamo schiacciare? Schiacciamo, allora. Influencer su Instagram. Gin Tonic e ristoranti. Ha fatto fortuna e adesso si gode la vita. Questa qua è costata sui 300 e qualcosa. Settimana prossima mi arriva la nuova, la 296. Questa è più adatta per i viaggi, diciamo, vedi? Ma anche questa sui 260, 280, poi dipende dagli option che si mettono, sì. E questo è il mio regno. Il Giniuli in platino costa sui 300. Quel monkey di Stiller Cut ha anche 450 e 500. Qui vengono anche per scampi, caviale, champagne, il più caro. 100% pinot nero sui 4.000 euro. Le bottiglie, quelle speciali, le beve anche da solo. L'ho bevuto l'altra sera io. Questa qua la bottiglia è 7.000 euro. Italiani che se lo possono permettere ci sono. Tantissimi. Secondo me il lusso è quello che non soffre, non sente la crisi. E meno male. Chi la sente la crisi, professoressa? Beh, la stragrande maggioranza degli italiani. Guardi, non credo di dire una cosa sconvolgente se penso che una buona parte di quelli che si permettono questi consumi sono probabilmente anche evasori fiscali. E se non sono evasori fiscali, sono quelli che in buona parte l'inflazione la alimentano. Perché la alimentano? La alimentano perché hanno posizioni, diciamo così, di potere economico. possono, se aumentano i loro costi di produzione, traslare quegli aumenti di costo in maniera moltiplicata sui prezzi, così aumentando il tasso di inflazione, cioè l'aumento generale dei prezzi, ben più di quanto non sia giustificato, per esempio dall'aumento del costo dell'energia. E' una storia triste, è una storia che riflette l'aumento delle diseguaglianze, francamente non ci vedo niente da ridere. Ma che c'entra, ma scusi, professoressa, ma il caviale sta nel paniere dell'istate dell'inflazione? No, ma sapete che uno dei vostri problemi è che ridete anche nelle circostanze sbagliate? Per fortuna riusciano a ridere e non a piangere, ma che raccomando, di tutti quelli che non riescono ad arrivare a fine mese, perché hanno problemi di salari che sono rimasti costanti, mentre i prezzi sono aumentati. Attenzione, Presidente Casini, lei tra l'altro scrive un libro che ha molto successo in questo periodo, è molto letto, si dice. Lei l'ha comprato, la letta. Io sono buttato appena arrivato, mi sono tuffato. Però è un problema veramente antico questo, quello delle differenze e dell'incapacità di fronteggiare il costo della vita del paese. È un problema costante. È un problema, a parte che questi signori che vanno in questi locali, io non so chi saranno, ma sarà una percentuale in ventesimale, stiamo parlando di nulla. Però al di là di questo c'è una differenza sostanziale che aumenta, eccetera. E hanno la maggioranza delle risorse. I nostri figli, quando vengono assunti in qualche posto di lavoro, anche quando sono magari avvocati specializzati, dopo aver fatto, prendono 1.400 euro. Il problema sono i salari. E sono in una condizione che se vogliono avere una famiglia e hanno una copertura previdenziale, che sicuramente non è quella della nostra generazione. Piccola pausa. Per cui esiste questa questione. Bonaccini, Rampelli e poi l'economia. Benvenuto Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, Vice Presidente della Camera dei Deputati. Benvenuto Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia Romagna. Allora, ripartiamo dal cartello 11, Presidente Bonaccini. Ne parlavamo in precedenza. Quello che ha colpito di Giorgia Meloni nella conferenza stampa dice, beh, sono stata sfortunata. Appena si presenta un problema se ne apre un altro. Non sono di certo stata fortunata. Cosa le fa pensare? Io cosa avrei dovuto dire? Che ci siamo ritrovati a un terremoto un po' di anni fa da 12 miliardi di euro e poi una delle prime regioni colpite al mondo dopo Wuhan con la pandemia. Non mi sono mai lamentato a dire che ero sfortunato, anche perché se dai sempre la colpa a qualcun altro o alla sfortuna come fa il governo, vuol dire che hai poche risposte da dare. Certamente ci sarà anche sfortuna, eccetera, ma io vorrei che Giorgia Meloni rispondesse. Il governo sta dando la colpa di quello che succede a qualcun altro e non se ne prende la responsabilità, questo dice. Ebbè, mi sembra molto evidente. Una volta è colpa di qualcuno, adesso ho letto che è colpa della Wagner. Insomma, bisognerebbe che rispondesse nel merito. Guardi, quando a noi è stato chiesto di accogliere i migranti, i profughi a Ravenna per ben due volte, l'ultimo dell'anno e poche settimane dopo, io al ministro Piantedosi ho detto ogni volta che avrete bisogno noi risponderemo presente, perché siamo gente abituata alla solidarietà e all'umanità a non darla a seconda del colore politico del governo che te lo chiede o a corrente alternata. Il problema è che il governo sul tema dell'immigrazione si sta dimostrando totalmente inadeguato, perché quando per anni usi slogan come prima gli italiani, è finita la pacchia, porti chi usi, e poi ti trovi a dover gestire quella che sta diventando un'emergenza, perché dai pur la colpa agli ONG e gli fai la guerra, ma segnalo, e Rampelli lo sa benissimo, che sono più che triplicati gli sbarchi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quando dici per anni prima gli italiani e vai in Europa, in Europa ti rispondono picche. Intanto mi pare che Giorgia Meloni si sia semplicemente limitata a far presente che si sono effettivamente susseguiti una serie di eventi particolarmente importanti. Del resto una coda di questi argomenti erano perfettamente prevedibili già quando governava Draghi e devo dire che sarebbe troppo facile dopo solo 90 giorni di governo pensare al futuro, non facendo l'analisi di tutto ciò che non è stato fatto. In 11 anni praticamente, forse ne manca uno all'appello, da parte di governi di segno opposto capitati dal Partito Democratico. Dice però Bonaccini, c'è vittimismo. Il vittimismo della destra. No, ho capito, scusa? Dice Bonaccini, c'è vittimismo. No, no, non c'è nessun vittimismo. Noi eravamo perfettamente consapevoli dei problemi a cui saremmo andati incontro con una vittoria elettorale il 25 settembre. Addirittura quasi ci si ironizzava sopra perché qualcuno, qualche malalingua, riteneva che probabilmente la crisi nel governo Draghi, nella maggioranza che sosteneva Draghi, pur personalità autorevole nazionale e internazionale, fosse quasi scaturita da una evidente impossibilità di andare avanti perché le ricette che venivano proposte dalla destra e dalla sinistra dentro il governo di grande coalizione rendevano impossibile affrontare i temi mastodontici che c'erano all'orizzonte. Quindi noi eravamo pronti e siamo pronti, orgogliosamente pronti. Bonaccini. Allora, Rampelli, se siete pronti, provi a rispondere nel merito sulla questione immigrazione. Com'è che dopo aver detto alcuni slogan per anni, perché è vero che c'erano altri governi, nessuno non lo riconosce ed è evidente che si siano fatti errori anche in passato, ma voi, a lei si ricorda le parole che usavate e anche la foga con cui le usavate? Prima gli italiani, i porti chiusi, è finita la pacchia e com'è che arrivati al governo triplicano gli sbarchi e nemmeno avete sentito il bisogno di portare un fiore su quelle bare che erano a Cutro e nemmeno vi siete fatti vedere per andare dopo pochi giorni a fare un consiglio dei ministri completamente inutile? e guardi, io non voglio ironizzare sul karaoke perché ognuno ha il diritto di festeggiare un compleanno ma se diventi presidente del consiglio o ministro c'è anche una misura che ha a che fare con quello che sta accadendo in quel momento quindi drammatico una misura che si chiama umanità il messaggio è talmente chiaro, caro Bonaccini che negli anni in cui voi avete avuto la possibilità di governare non mi pare che abbiate trovato la soluzione per contenere, gestire, gestire solo gestire i fenomeni dell'immigrazione e guarda caso si è da un lato cercato di favorirlo il fenomeno dell'immigrazione senza poi poterlo gestire perché non credo che noi ci si possa accontentare di fronte a disperati che vengono o da guerre e persecuzioni e sono quelli che noi vogliamo accogliere a prescindere o da immigrazione economica che vanno regolamentati nel loro afflusso verso l'Italia e nella loro distribuzione in Europa e in Occidente ma a secondo delle regole chiare quando invece avete governato voi purtroppo succede ancora oggi purtroppo succede ancora oggi a me risulta che gli immigrati tutto abbiano fuorché gli stessi diritti degli italiani stanno spesso e volentieri sotto lo sfruttamento o della criminalità organizzata o dei caporali che li sfruttano del lavoro nero dormono sotto i ponti sotto le pensione delle stazioni nei parchi pubblici non mi pare che ci sia questa umanità anzi io direi che se questa è umanità sinceramente non capisco a cosa sia il razzismo cosa sia il razzismo quindi attenzione a non darsi la zappa sui piedi quando si fanno le lucubrazioni filosofiche di quella natura prego a lei pare che io sia uno dai lucubrazioni filosofiche Rampelli mi risponda l'ha appena fatta l'ha appena fatta ah le ho appena fatte infatti il sottoscritto chiamato dal vostro governo dal suo governo che è anche il mio governo dal punto di vista istituzionale ci mancherebbe ha risposto sì due volte in poche settimane e guarda caso avete chiesto di sbarcare i profughi quasi solo ad amministratori e amministratrici del partito democratico e del centro-sinistra forse perché vi vergognate e vi vergognavate a farli sbarcare in realtà governate da esponenti del vostro partito dopo gli slogan che avete usato in questi anni ma lei mi risponde a una domanda com'è che non siete andati a cutro com'è che non siete andati a mettere un fiore su quelle bare quelle bianche con i pelucci di quei bambini ma com'è possibile che ne vengono con l'umanità aspettate vi faccio vedere se è d'accordo il presidente Presidente Rampelli allora aspettate c'è un filmato che abbiamo visto in precedenza quindi abbiate no no non è quello del Caroncini non è quello del Caroncini allora risponda poi le faccio vedere prego allora chi governa sbaglia sempre perché comunque si sottopone al giudizio in particolare del circolo mediatico e comunque dei cittadini ed è giusto che sia così io penso che Giorgio Ameloni e questo comunque bisogna prendere in considerazione non si può liquidare con una battuta abbia scelto di fare a cutro intanto un atto simbolico dicendo le istituzioni ci sono secondariamente di avere un atteggiamento sobrio e di deporre una corona nel municipio sotto la targa che diciamo celebrava episodi tragici che conosciamo invece di andare a fare vetrina dentro l'hangar dove comunque era stato il presidente della Repubblica che rappresenta tutti Giorgio Ameloni e il governo compresi perché se ci fosse andata di questo sarebbe stata accusata di strumentalizzazione io penso che abbia fatto bene a tenere un atteggiamento sobrio e a raccogliersi guardi le sue parole guardi Rampelli non mi sta bene guardi Rampelli le sue parole si commentano da solo io non devo aggiungere nulla le sue parole che si trincerano dietro la presenza di quello straordinario presidente che si chiama Mattarella si commentano da sole io non ho bisogno di aggiungere nulla non so se arriva l'audio lì allora arriva arriva con un po' di ritardo ma vedo che state dialogando benissimo sa presidente Rampelli c'è che Giorgio Sordo di chi non può sentire o che non riesce per il collegamento aspetti Bonaccini il tema della classe dirigente oggi addirittura un dirigente pubblico nominato da questo governo manda una lettera al consiglio d'amministrazione della sua azienda citando addirittura il discorso con cui Benito Mussolini rivendicò la responsabilità politica del diritto Matteotti abbiamo trovato in un importante film che riconoscerete il discorso originale di Benito Mussolini guardate si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione è un movimento di banditi e di predoni si insena la questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia ma poi o signori quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito ebbene dichiaro qui al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano che io assumo io solo la responsabilità politica morale storica di tutto quanto è avvenuto Bonaccini è grave o è folklore? questo è gravissimo è gravissimo questo è uno dei discorsi perché conosce la storia del paese più drammatici che avvennero il secolo scorso ed era la premessa di un regime barbaro assassino che ha ucciso o messo in galera tantissima gente solo per il fatto che aveva un'idea diversa da quella che il regime voleva dominante il fascismo ci portò alla seconda guerra mondiale all'alleanza col nazismo vede io ho sempre detto e lo riconfermo Giorgia Meloni non è fascista ma purtroppo un po' di contorno che ha lo è e credo che sia compito di Giorgia Meloni risolvere tutto questo perché questo davvero ci fa vergognare Rampelli intanto avevo già ascoltato questa dichiarazione di Bonaccini mi fa piacere che la confermi penso che questo episodio sia un episodio diciamo così di una sorta di principio goliardico pessimamente espresso giustamente l'artefice di questa vergogna si è subito dopo dopo essersi reso ridicolo si è dimesso come era necessario utile giusto che fosse diciamo che se ci sono personaggi nell'area della destra italiana che diciamo così hanno delle nostalgie rispetto al ventennio noi le abbiamo sempre tirate fuori da Fratelli d'Italia sempre ma non da quando esiste Fratelli d'Italia da prima che esistesse Fratelli d'Italia quindi è molto più credibile quello che sto dicendo perché si proietta indietro nel tempo di almeno 25 anni e rispetto a questo incipit non c'è possibilità di ripensamento Bonaccini allora spieghi al Presidente del Senato seconda carica dello Stato che non c'è di andare orgogliosi di fare collezioni di cimeli fascisti visto che quel regime andrebbe condannato per il solo fatto che ha mandato a morire migliaia di ragazzi ragazze uomini donne ci ha tolto la dignità come paese ci ha fatto alleare col regime nazista con Hitler ci ha portato alla distruzione della seconda guerra mondiale oppure lo spiega a quei ragazzi che uscivano da una sede di Fratelli d'Italia e sono andati a menare quei ragazzi e quegli studenti a Firenze per i quali non ho sentito da parte vostra una sola parola di condanna mentre io quando studenti universitari a Bologna sinistra radicale ambienti radicalissimi hanno messo un manichino a test in giù di Giorgia Meloni un minuto dopo ho espresso solidarietà e condanna dura perché è un ulteriore incitamento alla violenza mi dica Rampelli se non avete nulla da dire su quegli studenti che uscivano da una sede di Fratelli d'Italia guardi io ho detto molte cose al riguardo intanto la prima cosa che mi corre l'obbligo di sottolineare è che c'è una condanna assoluta e bipartisan anzi in questo caso bilaterale della violenza come metodo di azione politica questo vale per chiunque la eserciti per quello che riguarda Fratelli d'Italia noi non abbiamo mai mai avallato atteggiamenti di questo due e quando si sono verificati li abbiamo sempre condannati direi forse a eccezione del caso che lei ha citato e che riguarda se stesso se andiamo a guardare invece la dirigenza del Partito Democratico non c'è molta gente che abbia preso le difese degli studenti che a Bologna all'università sono stati aggrediti qualche giorno dopo gli episodi di Firenze che lei denunciava e comunque le faccio presente che su quegli episodi c'è un'inchiesta della magistratura che deve accertare se c'è stata un'aggressione o se quella è stata una reazione altrettanto deprecabile lo preannunciava il presidente Rampellice il caso del karaoke noi non lo trattiamo come mancanza di rispetto nei confronti delle vittime ne abbiamo già parlato ma lo creiamo come se quest'episodio lo trattiamo come se quest'episodio possa in qualche modo cambiare il punto di vista dell'opinione pubblica nei confronti di un underdog e invece si possa assumere il sapore di una festa della casta guardate chi c'era di un'altra di un'altra di un'altra e ancora alla tua volta questa è la corazzione della marina dell'istrano e del cielo sulle stelle e come tutte le nuove cose vivesti solo un giorno con le rose e come tutte le nuove cose vivesti solo un giorno con le rose Allora Bonaccini la grande sintonia di Giorgia Meloni con il popolo degli underdog in qualche misura può essere scalfita da una festa di potenti di potere proprio mentre nel resto del paese si parla di un fatto gravissimo, Bonaccini, Rampelli Vede, io non voglio strumentalizzare ognuno ha il diritto di festeggiare un compleanno, ci mancherebbe di certo fatto in quel modo in quelle ore andava assolutamente evitato il governo, come ho detto prima che nemmeno ha sentito il bisogno né di andare a porgere la mano o a confortare i familiari delle vittime né di mettere un fiore in quelle bare dove invece in maniera responsabile e a mio parere straordinaria per il messaggio che ha dato il paese è andato il presidente Mattarella come riconosceva peraltro Rampelli io credo che sarebbe stato meglio evitare quelle scene proprio in ore così drammatiche e pesanti Presidente Rampelli lei se la sarebbe non si sarebbe fatto beccare in una festa così o sbaglio guardi intanto contesto la sua premessa perché non è che abbia lenito diciamo così la presentazione di questo di questo video quale casta il 90% delle persone che sono state inquadrate e sottotitolate sono amici personali di Salvini da sempre sono tutti leghisti c'erano pochissimi non leghisti che avevano comunque rapporti personali non è che fosse una festa di 200 persone la festa per i 50 anni di Salvini sarà pure un ministro però è anche una persona avrà diritto di fare una festa con 30 invitati tra cui tutti quelli che appartengono al suo partito e che sono suoi legami sentimentali storici detto questo penso che anche un errore forse ci può essere stato l'errore lo ha fatto mi dispiace perché è una persona che comunque stimo Nicola Porro nel riprendere una situazione intima e privata e poi soprattutto addirittura diffonderla attraverso la rete lui il giornalista fa non credo che fosse le diamo scusa siete colleghi e magari anche concorrenti non credo che fosse quello lo scopo della sua presenza era presente perché è un amico di Salvini quindi forse in quel momento andava rispettata la privacy di una festa di compleanno oltretutto non è che il karaoke sia stato fatto in maniera così sguagliata in una bellissima canzone di André che è un cantatore meraviglioso intimistico e la canzone è anche molto l'ultimo fronte siamo andati molto oltre il fronte dell'economia guardate i prezzi chiederò una battuta a entrambi questa è la situazione dei prezzi una famiglia con due figli spende in media 1038 euro in più in un anno lo zucchero costa il 50% in più pane 24 burro 34 latte 22 formaggi 28 uova 21 Bonacini è questo il fronte del governo alla fine non il karaoke assolutamente vede in finanziaria non c'è un solo euro per contrastare il lavoro precario subordinato il part time involontario che colpisce soprattutto le donne o se si vuole prendere il fronte dell'impresa un robusto taglio al costo del lavoro da un lato per aumentare le buste paga di lavoratrici e lavoratori che oggi non arrivano a fine mese a causa del cartello che avete fatto vedere in diverse professioni e dall'altro magari decontribuire ad esempio al 30% alle imprese la possibilità di assumere con contratti a tempo indeterminato ragazzi e ragazze che ormai i nostri figli vivono una condizione unico caso in Europa nella quasi totalità dei casi di precarietà Rampelli dicevo che sono assolutamente sensibili rispetto ai temi trattati fin qui da Bonacini però mi dispiace smentirlo ma nella legge di bilancio c'è molta di questa roba intanto ci sono i 22 miliardi che abbiamo messo nelle tasche delle famiglie e delle imprese per contenere il caro bollette che mi pare che sia un record mondiale di tutta la storia della Repubblica italiana in maniera così cospica poi c'è stato a proposito di precari il provvedimento che ha visto l'azzeramento delle tasse sulle nuove assolzioni per le imprese che lo fanno l'azzeramento delle tasse sulla trasformazione dei lavoratori a tempo determinato a lavoratori in tempo indetermiato quindi sulle stabilizzazioni dall'economia ripartiamo perché la lotta al precariato la si fa governando appunto grazie Rampelli grazie Bonaccini guarda caso basta con gli argarismi ben tornato Alessandro Di Battista adesso cercheremo di capire con Alessandro Di Battista altri ospiti qual è l'approccio di questo governo ai problemi concreti che si pongono naturalmente l'immigrazione naturalmente l'economia ma Laura Gobetti abbiamo un sondaggio prego Laura sì sondaggi realizzati per noi da Ipsos come sempre abbiamo cercato di capire come le persone hanno valutato un po' gli ultimi eventi soprattutto il lavoro del governo partiamo dal cartello numero 1 il governo Meloni in generale è all'altezza del compito questa è la domanda la risposta come vedete per il 42% di chi è stato interrogato è no mentre sì lo dice il 41% come sempre c'è una percentuale di indecisi che in questo caso è del 17% sul cartello numero 2 invece la domanda che abbiamo posto è questa cosa pensa del karaoke di Salvini e Meloni il giorno dopo il consiglio dei ministri di Cutro l'abbiamo visto anche in trasmissione più volte è filmato è una brutta scivolata andava evitato lo pensa il 44% degli intervistati il 40% ritiene invece che non vi sia niente di male il cartello 3 invece parliamo di Alice Line come la definirebbe questa la domanda posta e allora per il 42% si tratta di un'opportunità per la rinascita del Partito Democratico per il 31% invece è un'altra leadership destinata a durare poco non sanno non indicano come vedete il 27% infine il cartello numero 4 abbiamo chiesto se si sentono tranquillizzati da quello che sta facendo il governo per affronteggiare i problemi economici e qui la metà delle persone ha detto no si il 31% allora grazie Laura Alessandro I Battista il tema che più vede in difficoltà il governo al di là dell'ordine del giorno dei media dell'ordine del giorno e anche dei talk show è quello economico è evidente tra l'altro io mi aspettavo quest'ultimo risultato del sondaggio perché noi cittadini siamo estremamente preoccupati dal caro vita dall'inflazione che continua a mordere da una vita sempre più difficile dal punto di vista sociale qualche giorno fa 288 medici dei pronto soccorso della Toscana hanno scritto una lettera alla Melonia alla regione toscana chiedendo un cambio di passo altrimenti erano pronti a dimissioni di massa c'è una testimonianza terrificante di un medico che parla appunto noi non vogliamo più soldi vorremmo soltanto non sentire le lamentele dei cittadini costretti a stare su una barella in un corridoio perché non ci sono posti letto questo è il mondo reale secondo me Floris è sintomatico che tra le domande di questo sondaggio vi fosse quella relativa al karaoke di Salvini a me del karaoke durante il compleanno di Salvini tanti auguri a lui a me non me ne frega niente ma il fatto stesso che all'interno delle domande di un sondaggio vi sia una questione che non riguarda la nostra vita non riguarda i nostri problemi non riguarda neanche l'attività di un governo facessero quello che vogliono al di fuori dell'orario lavorativo dimostra essenzialmente una cosa il totale immobilismo di un governo fondamentalmente composto non da fascisti ma da mediocre parolai che non avendo la possibilità di risolvere nessun problema e non volendosi assumere responsabilità banalmente anche sulla questione migratoria parlano in libertà colpevolizzano prima i migranti che fuggono poi oggi la brigata Wagner o Putin perché non sono in grado di assumersi delle loro responsabilità rispetto agli sbarchi che sono triplicati nell'ultimo anno per cui sostanzialmente per me Floris la principale problematica del governo è che in questi mesi non ha fatto nulla perché dal suo punto di vista è compatto politicamente è guidato da una leadership incisiva in ogni caso sicuramente coincide con gran parte dell'unione pubblica la Meloni è scaltra però e non è da lei ha dimostrato secondo me superficialità in quella conferenza stampa che quello è un atto politico a cutro come se fosse arrivata impreparata come se non avesse studiato e non è da lei perché lei si prepara evidentemente secondo me c'è un clima di nervosismo e anche di divisioni interne molto più come dire sostanziali rispetto a quello che si possa immaginare la problematica principale è che non ci sono sconti cioè si arriva stremati dall'aver cercato mediazioni compromessi arrivi e ti sei dimenticato persino il motivo per cui stavi andando fondamentalmente la Meloni perché in questo momento è in difficoltà perché la cosiddetta classe dirigente che lei ha scelto non è all'altezza dunque tenta sempre lei con una capacità comunque che ha politico-mediatica di tappare delle falle ma non è semplice perché ogni volta che si distrae un attimo ci sono delle dichiarazioni francamente davvero risibili da parte di esponenti importanti anche del governo banalmente aver incolpato dell'aumento dei flussi migratori la Wagner che tra l'altro in Libia vi è soltanto in una parte ristretta della cirenaica quando i principali problemi riguardo agli sbarchi avvengono in Tripolitania dove tra l'altro ci sono anche i militari italiani a misurata e tra l'altro oggi i flussi migratori riguardano essenzialmente le problematiche economiche e politiche in Tunisia dove vi è in atto una crisi sociale sconvolgente queste dichiarazioni Floris non le hanno fatto gli ultimi arrivati le ha fatti il ministro da difesa Crosetto ex sottosegretario alla difesa quindi uomo anche di esperienza era sottosegretario quando tra l'altro il governo Berlusconi con Meloni ministro avallò quella guerra in Libia e da lì nascono i flussi migratori l'ha fatta il ministro degli esteri Tagliani l'ha fatta Urso cioè i pezzi grossi oggi allora adesso li mettiamo tutti in elenco questi temi inizieremo dall'economia ma prima Luca e Paolo eccoci di nuovo qui allora questa settimana c'è stato un caso che ha riguardato Ellie Schlein sul Fatto Quotidiano giornale diretto da Marco Travaglio è stato scritto un articolo su di lei e a corredo dell'articolo c'era una caricatura di Francesco Federighi che è uno che collabora con il giornale e la caricatura era questa qua la vedete ecco ecco ora non risulta bellissima diciamo che non le ha fatto proprio un favore però ce l'ha a dire una cosa lo stile di Federighi è questo qua cioè se guardi le altre caricature sono tutte uguali non è che ecco qua non è che qui Giorgia Meloni stile Orso Yogi risulti particolarmente carina ecco nemmeno Salvini ecco con una legata bava da pastore ma nemmano non è proprio bellissimo e anche ecco questa con le labbra appena appena accennate questo bisogna dire è un piccolo capolavoro però la caricatura della Schein ha provocato l'indignazione di molti qualcuno ha parlato addirittura di antisemitismo per la forma del naso però adesso con tutto rispetto la Schein ha proprio quel naso lì anzi lei ha tenuto a definire etrusco ci tiene e quella di Federighi è una caricatura e le caricature si fanno così tanto adesso non vorrei dire ma le caricature io lo cito proprio dalle tre cani che lo siamo scritti un ritratto che senza abolire la rassomiglianza con la persona ne accentua in modo ridicolo o satirico i tratti caratteristici la caricatura per definizione punta proprio sulle caratteristiche fisiche quindi o vietiamo tutte le caricature che magari prima o poi si generano non c'è più nulla da stupirsi oppure non ci indigniamo ogni volta anche perché ci sono persone che avrebbero avuto ben di più da lamentarsi per esempio ricordate come Forattini disegnava il leader del partito repubblicano Giovanni Spadolini così lo disegnava noi eravamo ragazzi io me la ricordo cuccionissimo col pisello e andava ancora bene perché negli anni Forattini ha disegnato così per esempio Trump guardate Trump come l'ha fatto un cinghialone che scorreggia eppure nessuno si è lamentato ora sicuramente i protagonisti non erano felici ma la satire è questa roba qua non si ricordano appelli o indignazione quando Vauro ha disegnato il presidente della Camera Fontana con questo stile diciamo una merda di vacca con tanto di mosche possiamo dire che merda di vacca è peggio di nasone trusco si si è molto peggio poi ci sono quelle terribili cattive che davvero insultano la vittima tipo questa ecco no vabbè no vabbè questa è un po' troppo questa però no questa è irrispettosa questa andrebbe vietata posso dire non è possibile accanirsi così contro una persona meno fortunata grazie Alessandro che l'ha tolta perché ci vuole un minimo di rispetto bravo Andrea Pazienza per esempio il grande genio ritraeva così Giulio Andreotti con la gobba le orecchie a terra vestito a mafio ma per esempio quante battute sulla gobba di Andreotti sono state fatte nella storia sulla gobba di Andreotti l'altezza di Brunetta gli zigomi della Sant'Anché la furbizia levantina di Rubi Rubacuori quella non era una battuta era un pubblico ministero però non ricordo la mentele però poi ogni tanto c'è qualche frase o qualche disegno che non si può fare cioè c'è qualche politico o politico o politica che rientra o politico o politico che rientra negli animali da proteggere quelli in via distinzione e ora Schlein rientra in questa specie protetta cioè ora si alzano gli scudi ma poi siamo sicuri che di tutti questi difensori Schlein ne abbia poi davvero bisogno perché a me pare come non sia una persona indifesa sembra una donna molto forte non è che tutti questi difensori magari non la indeboliscano ma c'è di più c'è una tendenza sempre più forte a confondere due frasi simili ma con significati diversi si confonde sempre il non mi fa ridere con il non fa ridere cioè c'è l'avanzamento di una forma di arroganza per la quale ciò che non ci piace a noi diventa automaticamente sbagliato e censurabile per tutti e bisogna aggiungere una cosa ancora più ridicola il disegno della Schlein è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano che non ha particolare astio verso la nuova segretaria ma voi ve lo immaginate se lo stesso disegno lo avesse pubblicato una caso libero staremmo appendendo senaldi per le caviglie con Floris che lo fustica con delle felci bagnate siamo sinceri avrebbero chiesto le dimissioni di un ministro a caso così per non perdere l'abitudine perché in questo paese non conta solo il disegno ma anche chi lo pubblica e quindi qua sorge una domanda non è semplicemente che non abbiamo più la capacità di ridere di ridere di noi stessi di altri e di permettere agli altri di ridere di noi accettare di essere preso in giro ma guarda aggiungerei accettare anche di essere insultato non è forse quello che distingue un adulto da un adolescente invece ogni volta si reagisce con sdegno si chiedono teste si risponde piccati si toglie il follow come ha fatto Calenda no non me lo ricordate sto ancora sotto un treno per quella cosa Carlo ripensaci perché forse il problema è questo la totale mancanza di senso dell'umorismo e conseguentemente di senso del ridicolo che sono sinonimi di intelligenza ecco e quando ti manca il senso del ridicolo poi è un attimo che ti ritrovi Mattia Santori nella direzione del PD Luca Luca e Paolo profondi leggeri benvenuto Luigi Abete Luis Business School sempre con noi Alessandro Di Battista Di Battista dal punto di vista dell'economia come sta andando la Meloni? Beh è un po' quello che dicevano poi più probabilmente il metà metà degli italiani sono particolarmente preoccupati perché qua la situazione è catastrofica per me è sempre legata alle speculazioni anche alla crisi economica e sociale legata alla guerra in Ucraina hai mancato i tentativi di una risoluzione diplomatica anzi vedo che l'Europa continua sempre più sulla strada delle armi e sulla strada delle sanzioni ma l'errore della Meloni qual è? Beh innanzitutto la Meloni questo onestamente in campagna elettorale non l'ha tradito perché in campagna elettorale lei è stata come dire sempre chiara rispetto al sostegno unico alla Nato e a questa strategia che per me è fallimentare per l'Italia per la Germania e per tutta Europa certamente tanti elettori che hanno legittimamente votato alla Meloni si aspettavano un cambio di passo come dire lei oggi fa la moderata deve fare la moderata in campagna elettorale per non spaventare i mercati per non spaventare Biden per non spaventare la von der Leyen poi una volta arrivata al potere riuscirà a guadagnarsi degli spazi di autonomia il tema è che un conto è arrivare a Palazzo Chigi che ci è arrivata democraticamente e legittimamente un conto è avere la forza di governare di prendere delle decisioni che possano anche scontentare alcuni salotti buoni dove lei evidentemente preferisce accreditarsi piuttosto che coltivare il sovranismo che l'ha fatta eleggere Luigi Abete c'è una gabbia che impedisce agli innovatori di incidere nell'economia c'è la realtà che impedisce ai sognatori di poter realizzare le proprie aspettative le utopie fanno parte della cultura e quindi come tale vanno rispettate però se c'è una cosa che va sottolineata del governo che ha saputo essere coerente con l'obiettivo della compatibilità tra il livello del debito pubblico e le azioni di politica economica la vera preoccupazione che aveva il mercato internazionale il mondo rispetto all'Italia è che un governo nuovo che avesse al suo interno anche delle spinte fortemente populiste non avesse questa capacità di essere coerente la Meloni è riuscita a mantenere questa capacità di compatibilità e penso che questo sia dimostrato non solo dagli spread che vanno sempre di moda e che in questo caso dimostrano come non c'è stato un passaggio negativo dal precedente governo a questo ma anche sul fatto che in alcuni momenti di fronte alle spinte di diciamo elargire oltre misura oltre il consentito che veniva dall'interno stesso del governo il governo ha avuto la capacità di reggere di battista allora quello che dottor Abete sostiene appunto sono stati rigoristi si sono comportati in maniera responsabile realisti si sono comportati in maniera responsabile perché appunto hanno preferito sostanzialmente la realtà piuttosto che insistere su determinate promesse elettorali che comunque hanno fatto loro perché sono loro che hanno presi i voti parlando di di blocco navale e l'unica cosa che hanno bloccato oggettivamente è il super bonus che per molti analisti ha anche permesso un rilancio del prodotto interno lordo e un'occupazione del settore dell'edilizia dovevano sostanzialmente chiudere i porti e chiudono gli occhi davanti agli sbarchi dovevano garantire spazi di autonomia e di indipendenza in Europa e appunto anche a livello di politica internazionale oggi per me rispondono essenzialmente a quel che dice Biden e questo però ha a che fare dottor Abete con le problematiche che si vivono anche con la possibilità di spendere dei soldi perché fino a che ripeto non si troveranno soluzioni diplomatiche un attimino sulla questione ucraina e qua non è sogno in realtà è linea politica si può scegliere di andare per forza e seguire in tutto e per tutto quel che dice Biden nella Nato oppure si può tentare di costruire un percorso politico leggermente più autonomo e smetterla banalmente con sanzioni mi stia sull'economia mi stia sull'economia l'errore sa per me sa perché non sono d'accordo con Abete fondamentalmente nella finanziaria che è una finanziaria per me non fascista ma gentiloniana infatti apprezzata moltissimo in Europa perché come dice il dottor Abete fondamentalmente è una finanziaria scarsa dal punto di vista dei denari che sono stati piazzati e la maggior parte dei denari sono stati messi sul caro bolletta all'interno di quella finanziaria c'è anche la creazione di nuovo anzi la ricreazione della società Ponte sullo Stretto SPA che dovrebbe ricostruirci a proposito di sogno in realtà per me il Ponte sullo Stretto è un sogno ricostruire questo ponte anzi costruire un Ponte sullo Stretto che i cosiddetti esperti negli ultimi vent'anni l'hanno già fatto costare cioè già c'è costato quel ponte inesistente 1,3 miliardi di euro cioè anche questo cozza con la realtà però questo si fa passare dice Di Battista 1 miliardo di armi noi non stiamo dando una violazione di singoli atti stiamo dando una violazione di tipo complessivo sul piano complessivo il governo è stato coerente con mantenere la compatibilità tra il livello del debito pubblico e un ordinato e positivo andamento dell'economia perché l'Italia è un paese che sta crescendo oggi più degli altri paesi europei nonostante tutte le debolezze strutturali normative storiche buogradiche che il paese ha negli ultimi anni l'Italia ha recuperato capacità competitiva rispetto alla Germania e alla Francia ad un tasso migliore rispetto a quello che questi paesi fortemente più solidi del nostro hanno avuto quindi certo ognuno di noi spera che la crescita sia maggiore ognuno spera che i maggiori occupati siano di più i poveri il tema della povertà il tema della povertà purtroppo è un problema reale che non è certamente governato diciamo in termini di mesi fa parte di un processo lungo voglio dire difficile che stanno affrontando tutte le società moderne perché tutte le società moderne purtroppo i dualismi che non ci sono all'esterno si ripresentano all'interno dei paesi reddito di cittadinanza di Battista che rimane aperto qualunque sia il governo allora vedremo reddito di cittadinanza riforma fiscale e super bonus tutte le società appunto stanno affrontando il tema della povertà è vero credo che proprio oggi Meta che è l'azienda all'interno della quale c'è Instagram Facebook e Whatsapp quindi cose che utilizziamo ogni giorno Zuckerberg ha licenziato 10.000 dipendenti dopo averne licenziati 11.000 a novembre in Silicon Valley dopo tanti anni di assunzioni si licenzi ha licenziato Twitter di Musk ha licenziato Amazon ha licenziato Google e ora sta licenziando Meta il che per me cosa significa che la piena occupazione anche in settori estremamente redditizi per vent'anni è un'utopia ergo servono degli strumenti appunto di reddito di cittadinanza e reddito universale il governo Meloni attualmente lo stesso appunto che ha elargito un miliardo di euro in armi in Ucraina ha tagliato dei disperati circa un miliardo di euro in reddito di cittadinanza vede dottora ma non sono due temi separati se noi vogliamo parlare di politica economica se vogliamo parlare degli effetti di una guerra che stiamo tutti quanti vivendo ma sono legati scusi sono legati ma perché il giudizio storico che diamo sugli eventi in termini di responsabilità è diverso tra lei e me è inutile che ci mettiamo a discutere di questo perché è evidente che lei ha un giudizio come dire tra virgolette super pacifista e io ho un criterio di responsabilità politica dei popoli che vengono oppressi da altri che li invadono e quindi qui c'è un problema di valutazione storica c'è una scelta politica lui dice però li vai a togliere condividalo condividalo io posso metterlo via però lui dice li toglie ai più poveri non li togliamo ai più poveri innanzitutto dobbiamo evitare che nasca una confusione cioè che le società che fanno innovazione riducono l'occupazione è vero che alcune grandi società diciamo che sono positivamente anche collocate sul piano della redditività economica in America licenziano ma è anche vero che in questo momento in America l'occupazione sta salendo a un livello tale che non si vedeva da anni il che vuol dire che se licenziano una parte vengano da un altro torniamo in Italia cartello 8 Presidente Abete gli aumenti il problema della povertà rimane ma anche del costo per cui diventi povero pure non essendolo in partenza allora questi sono quelli percentuali latte da 1,5 questi sono quelli in termini assoluti da 1,50 a 2,20 il litro di latte panno da 3,40 a 4,50 burro 2,40 a 3,60 formaggi 20,90 a 26,70 aspetti concludo con quelli in percentuale guardate il 18 zucchero più 54 burro 34 formaggi 28 pane 24 latte 22 uova 21 si diventa poveri allora noi abbiamo avuto uno shock energetico enorme il costo di energia si è decuplicato per un lungo periodo e questo ha prodotto evidentemente una spinta inflattiva per l'aumento dei costi e perché quando aumentano i costi in modo così improvviso che qualcuno possa diciamo aggiustare in termini implementativi il proprio adeguamento dei prezzi esiste non so se è detto ciò detto noi dobbiamo vedere quando la curva è ritornata a un punto di equilibrio non si possono fare queste percentuali su periodi brevi perché periodi brevi sono oggettivamente siano esse positive o negative non danno un'idea non danno un'idea di battista allora oggi noi abbiamo oggi noi abbiamo oggi noi abbiamo un'inflazione che deve cominciare a decrescere significativamente perché abbiamo un costo di energia che si è ridotto in modo significativo fra quattro mesi fra sei mesi siamo in grado di fare queste percentuali in termini corretti altrimenti ognuno fa la percentuale che gli fa comodo a lui mi hanno insegnato che dipendono da chi è capace a farle e chi non è capace a farle di battista lei è un maestro però voglio dire se noi prendiamo un altro punto di libertezza dovremo in quei dati invece di vedrà che tra poco prendiamo anche caviale e il champagne ci ho detto il problema esiste si è becchiavo il problema esiste dottor Abete la scommessa o l'idea che l'inflazione possa decrescere nei prossimi mesi è la stessa teoria che avevano i dirigenti tra l'altro della Silvia ci vediamo qui tra sei mesi era la stessa teoria che avevano i dirigenti della Silicon Valley Bank che è fallita due giorni fa la stessa identica teoria per quanto riguarda lei sostiene il tempo dobbiamo vedere tra sei mesi guardi le assicuro che in un'Italia in cui oggi i poveri non sono soltanto le persone disoccupate infatti c'è soltanto il figlio ma anche le persone che lavorano perché a differenza di 30 anni fa dove un operaio poteva con uno stipendio mandare avanti una famiglia mandare una famiglia in belleggiatura un mese comprarsi una casa oggi due stipendi non bastano per arrivare a fine del mese sei mesi molti cittadini non ce li hanno non deve convincere le aziende legate ai bonus edilizi non soltanto al super bonus famiglie imprese giovani che devono crearsi magari una famiglia o comprarsi una casa grazie appunto al lavoro in quel settore oggi con quello stop da parte del governo Meroni senza attualmente una contromisura perché io posso anche comprendere che si voglia fare una variazione di un progetto ma prima tiri fuori una contromisura una variazione e poi stoppi sei mesi dottor Abete non ce li hanno allora Luigi Abete a lei l'ultimo passaggio su questo tema poi vedete i nostri ospiti pronti a parlare di nuovo del tema del governo generale è evidente che ognuno dà le sue interpretazioni sugli effetti di certi provvedimenti i provvedimenti del cosiddetto super bonus sono stati hanno prodotto un effetto positivo di fatto molto inferiore è quello che si dice se lo misuriamo sul PIL nel 21 e mezzo punto su 6 e mezzo nel 22 e 09 totale 1,4 hanno riportato nelle casse dello Stato 14 miliardi tra tasse e contributi maggiori contro un'uscita di 70 miliardi la differenza 70 meno 14 fa 56 lo Stato ha messo è chiaro che tutti noi siamo contenti se qualcuno finanzia la sistemazione della nostra casa della nostra macchina del nostro progetto di vita è evidente mi sembra naturale nessuno lo può però che noi possiamo pensare di far marciare l'economia a spese degli altri a spese del pubblico grazie dottor Ammette per essere stato con noi attenzione prego agli altri ospiti vi faccio vedere tutto il problema parte da una supposta confusione confusione che si sarebbe verificata a Cutro guardiamo ciao presidente poiché mi pare che le risposte siano state chiare ok o perfetto secondo voi no e quindi voi state dicendo che c'è stata una volontà scusate scusate non è un dibattito non riesco a capire non è un dibattito in che cosa si ritiene allora faccio io provo a capire provo a capire il problema ok scusa non è un dibattito no si no 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 non puoi fare così però eh non è professionale certo ma dopo l'incidente non prima dell'incidente abbiamo risposto in Parlamento loro partono anche la ricostruzione in Parlamento posso scusate scusate no 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 scusi sono io ho fatto confusione sul prima e sul dopo ok Matteo c'è la ricostruzione che io ho fatto in ben cinque informative in Parlamento altri passaggi vedremo salutiamo i nostri ottiti ve li presento mano a mano Alessandro Di Battista cosa sta succedendo nel governo dal suo punto di vista ma quell'immagine la avevamo a destra Matteo Salvini che è responsabile della Guardia Costiera vice premier ministro dei trasporti colui che credo l'estate scorsa disse che erano delle minchiate credo utilizzò questo termine le opinioni riguardo appunto alle responsabilità di Putin della Russia sul tema immigrazione questo ha detto il vice premier di destra il vice premier di sinistra che è ministro degli esteri dunque il capo della diplomazia tra l'altro un politico di vecchio corso credo che fondò Forza Italia è stato presidente del Parlamento Europeo invece in colpa dei flussi migratori la brigata il gruppo Wagner è un tentativo vero e proprio di destabilizzazione quasi una sorta di guerra ibrida che se questa fosse davvero la linea reale creduta da parte del governo lo dovrebbero fare il blocco navale stamattina lo dovevano fare perché si tratta di impedire un atto bellico sebbene di una guerra ibrida da parte di un paese straniero al centro c'era la Meloni che secondo me in quella conferenza stampa ha dimostrato una inusuale per lei in preparazione che è in difficoltà è in difficoltà su questo tema perché hanno preso i voti parlando di blocco navale parlando di stretta sull'immigrazione parlando di lotta in Europa di Europa matrigna di sovranismo di rispetto dell'interesse nazionale di Piano Mattei che prima Tagliani chiamava Piano Marshall per l'Africa ricordatevi che quando un politico parla di Piano Marshall per l'Africa perché non sa cosa dire ecco hanno preso i voti e oggi gli sbarchi sono triplicati i piante dosi giorni fa se le è presa con i migranti non se la possono più prendere con i migranti dopo quella strage quella tragedia assoluta e oggi cercano di individuare un altro responsabile che responsabile non è perché non c'entra nulla la Wagner con la Tunisia con la crisi climatica con la siccità con i cambiamenti climatici con la speculazione del riguardo le cavallette per non assumersi le loro responsabilità Forza Italia è il segnale di qualche cosa che non torna francamente io rispetto a quello che è successo a Cutro ho visto il governo a parte quella frase del ministro Piantedosi va un po' fuori dal contesto però va anche detto che il ministro Piantedosi è un tecnico pure quindi non ha la sensibilità politica che magari ci sarebbe servita però è un bravo tecnico rispettato da tutti dal punto di vista della capacità al di là di quell'episodio il governo si è comportato bene lo Stato italiano si è comportato bene e francamente il problema non è chi governa in questo momento chi ha governato in altri momenti dipende dalle contingenze la Tunisia la siccità il terremoto in Turchia perché è chiaro che la Turchia che prima poteva controllare il territorio in un certo modo adesso lo controlla meno perché c'è un disastro che è il terremoto il punto è le misure che tu adotti per cercare di fermare le partenze e le puoi adottare sulla base di quelle che sono le situazioni di là dal mare vero? perché si può invocare il blocco navale poi c'è chi in campagna elettorale l'ha detto magari in maniera inopportuna ma il blocco navale lo fai se sei d'accordo col paese che c'è dall'altra parte e così anche dovremmo vedere poi il nuovo reato di immigrazione ma professoressa di Cesare arriviamo di nuovo alla politica ma passiamo per il pensiero c'è una frase che ha colpito tutti guardate cosa ha detto Giorgia Meloni nell'ultimo incontro con la stampa il cartello 11 Giorgia Meloni ha detto beh parliamoci chiaro appena si affronta un problema se ne apre un altro non sono stata fortunata se ci mettiamo anche le cause che muovono l'immigrazione che adesso diventano delle cause complesse difficili da gestire e ci mettiamo sopra il crescendo di Giorgia Meloni dagli ultimi anni fino a pochi mesi fa vediamo l'RVM 104 vediamo che alla fine non ci si può che trovare in difficoltà guardate quella che abbiamo visto in Italia 500.000 immigrati in tre anni è un'invasione pianificata e voluta si chiama sostituzione etnica e noi non la consentiremo l'Italia deve affondare la Sea-Watch deve demolire la Sea-Watch deve dare un segnale a tutte le altre navi delle ONG che adesso pensano di poter liberamente venire a portare immigrati clandestini a casa nostra io rimango ferma sulla mia posizione blocco navale allargo delle coste della Libia erano pronti di Cesare mazzo ma guardi io penso che il naufragio di Cutro costituisca anche simbolicamente un po' un tracollo di questo governo un tracollo un tracollo peraltro assolutamente non elaborato nel senso che questo governo non è riuscito almeno fino adesso a reagire a quello che è avvenuto e a me pare diciamo che i caratteri di questo governo sono i caratteri di una nuova destra che è una destra io ho sempre detto post fascista ma è una destra anche molto diciamo organizzata nel senso di un vittimismo e un complottismo va bene cioè la politica a mio avviso è fatta è una scelta di strade quindi quale strada scegliere nella complessità per esempio del tema della migrazione a me sembra che anziché la strada ci sia la scusa ogni volta la scusa per non affrontare un problema e certo certo diciamo che il frangente il contesto è un contesto molto difficile però a mio avviso quello che poi diciamo naufraga in questo momento è un sovranismo che isola l'Italia perché io credo che questo momento sia anche un momento particolarmente negativo per l'Italia perché è un'Italia ripiegata in sé sempre più isolata in Europa che soprattutto non sa guardare il problema della migrazione Mauro Mazza lo conoscete giornalista RAI direttore di RAI1 di RAI Sport e il TG2 diciamo la difficoltà di gestire una premessa culturale quella che abbiamo visto perché in fondo declinata in campagna elettorale è la premessa culturale della destra di Giorgia Meloni con i fatti abbiamo visto prima il confronto sull'economia con Luigi Abete e adesso quello con l'immigrazione con le contraddizioni che escono fuori guardiamo prima citava Alessandro Di Battista il tweet di Salvini noi sappiamo che molti esponenti del governo hanno detto guardate attenzione la colpa è della Russia della Wagner che controlla delle parti del Nordrafica esce fuori che a luglio dell'anno scorso Matteo Salvini spiegava per la sinistra sarebbe Putin a spingere barconi pieni di clandestini verso l'Italia siamo alle comiche la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi la colpa è di PD e la morgese quanto queste difficoltà queste contraddizioni a questo punto stanno togliendo un po' il terreno da sotto i piedi Giorgia Meloni oppure no faccio una premessa di 30 secondi e la risposta degli altri 30 secondi io sono contento da cittadino che l'opposizione le opposizioni quella giornalistica quella politica quella culturale diano segni di vitalità di reazione alla tragedia che c'è stata a Cutro vicino alle coste di Crotone perché veniva da un periodo nero sconfitta elettorale pesante a settembre ribadita in Lombardia e nel Lazio il caso Soma Ouro l'esperto dell'accoglienza agli immigrati il caso Qatargate corruzione con immagine devastante della sista italiana ed europea a Strasburgo a Bruxelles quindi la prima occasione che è arrivata la tragedia che tutti ha fatto soffrire piangere e disperare di Cutro è stata colta al volo strage di Stato il governo ha le mani sporche di sangue la politica dov'è? io mi chiedo se questo che è una tragedia nazionale e internazionale vedesse l'Italia unita nella richiesta ultimativa all'Europa di aiutarci nell'interesse e nel bene comune aiutare noi i disperati i paesi di partenza sarebbe un'altra forza per il governo italiano a prescindere da chi lo presiede l'Italia avrebbe più forza se fossimo tutti insieme di fronte alla tragedia da affrontare Putin o non Putin disperati che arrivano che come li fermiamo non solo noi con l'Europa ma ci vuole l'Italia unita da questo punto di vista non che accusa le mani sporche di sangue la parte Bruno Tabacce appello all'unità ovviamente non ho fatto il tifo in queste settimane perché il governo facesse così una figura così magra e così rapidamente lo dico con grande serietà perché credo che se dicessi una cosa diversa vorrebbe dire che io non voglio bene il mio paese però non erano pronti hanno vinto le elezioni anche perché non c'era un'opposizione in grado di portare una proposta alternativa perché con il 43% dei voti l'onorevole Meloni ha preso il 63% dei seggi quindi non c'è alternativa in questa legislatura stiamo sereni però il punto è che non erano pronti e sono andati di male in peggio il ministro degli interni ha parlato anche dei rev prima di parlare dei migranti vi ricordo collega che un tempo i grandi ministri degli interni parlavano solo ferragosto per dire che ci garantivano le vacanze non stavano tutti i giorni a parlare di politica anche quando non la capiscono e poi ha mandato avanti questi ragazzi che sono andati avanti in Parlamento con quella sceneggiata che ha accusato il PD di essere colluso con la mafia vuol dire che hanno ancora la testa come se fossero l'opposizione ma hanno vinto le elezioni se ne facessero carico due problemi che mostrano la difficoltà che sottolinea Tabace e che contesta in qualche modo Flavio Tosi il primo è e mi rivolgo a Fabio Dragoni il primo è Giorgia Meloni quando le chiedono se andrà o no a trovare i parenti delle vittime o a rendere omaggio alle vittime sembra quasi che non sappia se ci deve andare o no guardiamo scusa non è un dibattito no si no 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 non puoi fare così però non è professionale certo ma dopo l'incidente non prima dell'incidente noi dicono anche prima abbiamo risposto in Parlamento loro partono la ricostruzione in Parlamento posso scusate scusate no 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 scusi sono io ho fatto confusione sul prima e sul dopo ok ok l'hanno informata male perché non è stato invitato il sindaco di Cordona la presidenza perché non è andato a fare gli altri familiari delle vittime da Cordona perché non c'è andato quando guardi oggi ho finito adesso dopodiché io per me possiamo andare tranquillamente scusa scusa perché cosa sta succedendo sta succedendo che un consiglio dei ministri si fa a Palazzo Chici assolutamente non esiste fare un consiglio dei ministri fuori da Palazzo Chici quindi male molto male che ha consigliato Giorgia Meloni di fare un consiglio dei ministri in una sede che non fosse quella istituzionale e non mi riferisco solo a Giorgia Meloni ho trovato sempre stucchevole le volte in cui l'esecutivo si è spostato come un circo in altre sedi anche perché la sede chiama rispetto perché quelle scene da Maurizio Costanzo show uno contro tutti dentro Palazzo Chici non le vedi non le vedi quindi male molto male da questo punto di vista succede si sbaglia tutti quindi figuriamoci il più bravo è quello che sbaglia di meno dopo quattro mesi si può dare un giudizio del governo si si può dare un giudizio lato immigrazione sta facendo male si sta facendo male ma possiamo dirlo noi non potete dirlo voi a sinistra non potete dirlo voi perché e mi riferisco in modo particolare a lei tabaci se si indigna di fronte a Donzelli che giustamente ha strumentalizzato una presunta vicinanza del partito democratico nei confronti della mafia ma cosa dovrebbero dire loro che gli avete dato degli stracisti dalla mattina alla sera quindi Cencio dice male di straccio e il più pulito c'ha la rogna detto ciò e chiudo detto ciò e poi chiudo poi torna a parlare poi torna a parlare se il governo Meloni ha fatto male dal lato dell'immigrazione io la contraddico vivacemente la professoressa di Cesare ma non è affatto isolata l'Italia d'Europa ma tutt'altro è uno dei luoghi comuni che viene subito dopo che non ci sono più le mezze stagioni ricordo a tutti che in questo momento la direttiva sciagurata che prefigurerebbe la fine della nostra industria automotive è nel cestino per un'azione dell'Italia che è riuscita a coagulare i paesi di Visegrad che voi disprezzate tanto che sono Polonia Ungheria Repubblica Ceca Slovacchia il Portogallo la Bulgaria e addirittura la Germania allora aspettate perché arriviamo all'economia arriveremo all'economia arriveremo alla professoressa manca un elemento infatti sull'automotive la voce più importante è stata quella del professor Prodi ma senza dubbio ricostruiremo tutto ma manca un elemento della settimana che ci ha portato a queste riflessioni Vittoria Baldino Movimento 5 Stelle c'è il tema del karaoke diceva giustamente Alessandro Di Battista guardate che quelli sono i compleanni uno fa il compleanno poi diceva e ci spiegava anche Rampelli dice se poi quelle immagini escono il problema è che siano uscite più che quello però ha dato un colpo nell'immaginario probabilmente le faccio vedere abbiamo ricostruito due aspetti uno la canzone chiaramente sfortunata che esca proprio quella canzone cantata a quelle persone che neanche 24 ore prima erano in quel caos del consiglio dei ministri ma anche la composizione e si è stato scritto è stato detto immagino un po' anni 80 tutti potenti alla festa del potente guardiamo il karaoke del bisogno che si è stato scritto per la vita di un anno e ancora alla tua volta questa è la tua sona e Maria e riserva e il cielo su una stela E come tutte le nuvele cose Vivesti solo un giorno come rose E come tutte le nuvele cose Vivesti solo un giorno come rose L'immaginario è fluido, onorevole Si passa da underdog a casta per un filmatino magari No ma guardi qui non è una questione di casta Qui nessuno condanna un karaoke a una festa di compleanno Qui il tema è un contegno anche Che un governo deve avere in un momento così delicato Dopo meno di 24 ore da quel consiglio di ministri Che più che un consiglio di ministri sembrava un'assemblea di condominio di borgata Con tutto il rispetto per la borgata e per l'assemblea di condominio Credo che ci siano persone ancora più preparate di loro Si sono presentate con un CDM spot Con un decreto spot In un momento delicatissimo Non si sono neanche degnati di andare a rendere omaggio ai familiari delle vittime Ma guardi se non lo voleva fare per il popolo afgano Per il popolo siriano Per il popolo pakistano Che piangeva quelle vittime Poteva farlo per il suo popolo Per il popolo crotonese Che invece ha avuto l'umanità di andare a piangere Quelle bare che non erano piante da nessuno E siccome questa tragedia ha dimostrato tutta l'inconsistenza politica Di questo governo Di questo partito su un tema di bandiera Che è quello dell'immigrazione Allora adesso che cosa fanno? Hanno provato a prendersela con i governi di turno? Non possono prendersela con i governi di turno Perché adesso governano loro Hanno provato a prendersela con le ONG In questo caso non c'entrano le ONG Hanno provato a prendersela con gli stessi migranti che sono morti Perché non dovevano partire Allora a questo punto Siccome non sapevano più con chi prendersela Se la sono presa adesso con i russi Con la divisione Wagner Ma mai assumersi le proprie responsabilità Allora, ora dovremmo sentire Davide Tesario e Dario Laruffa Ma chiedevano l'intervento a Mauro Mazza Spero spot, prego Sì, spot significa che è vietato ridere C'è un programma che si chiama LOL Chi ride è fuori Allora, sarebbero stati eliminati prima Giuseppe Conte e la Sclai Che si sono abbracciati sorridendo a Firenze per esempio O all'assemblea del PD Che tutti ridevano domenica scorsa Ma cosa c'entra Firenze? Qui stiamo parlando No, parlavo della risata Parlo del clima E l'ho parlato del teatro di una tragedia Che è diventato teatro dell'assurdo La strada è già stata Non sapeva nulla Allora, calmi No, scusa Giovanni, fammi dire Davide Tesario c'è, sì Prego, prego La coppia Canora non funziona Stonavano Quindi andrebbero incriminati per quello Salvini e Meloni Che la coppia politica possa funzionare Quattro anni e mezzo d'anti Per dimostrare che la coppia politica può funzionare Professoressa Me lo dà un aspetto Lei Hanno ragione in qualche misura Anche nei funerali C'è sempre quel flash Che prende il partecipante Che in un attimo magari sta sorridendo Sta guardando da una parte Perché questa vicenda invece ha colpito così tanto? Ma ha colpito così tanto Secondo me Perché loro non sono persone qualsiasi Ma rappresentano il governo La maggioranza degli italiani E rappresentano l'Italia Non la maggioranza Rappresentano tutta l'Italia Rappresentano anche me Scelti dalla maggioranza degli italiani Scusi E mentre dal mare venivano fuori ancora corpi di bambini E Conte riterano a Firenze Scusi Loro hanno fatto questa cosa Allora per me c'è anche una questione anche di ritegno e di pudore Che ha anche una rilevanza politica Va bene? Quindi un ritegno politico Un pudore politico Rispetto anche al paese Che rappresenta Dario Laruffa Era una festa privata Che abbiamo Che noi non avremmo titolo a commentare A vedere Mentre Schlein e Conte In pubblico Accanto a Zoro Ridevano In un contesto pubblico Povero Zoro Tirato dentro Per fare il paio con Porro Allora senta Dario Laruffa L'abbiamo chiamata per parlare di economia Però è stato corrispondente tanti anni in America Questa è una classica situazione anglosassone Si risponde del proprio ruolo Anche nei momenti in cui si diventa Assolutamente sì È una classica situazione Che così verrebbe eletta Forse più ancora negli Stati Uniti Che in Gran Bretagna Sinteticamente Tre secondi sulle cose che ho sentito Primo La politica è fatta anche di simboli Spostare il Consiglio dei Ministri In luoghi significativi È significativo Poi dipende come è andata Secondo La questione dell'immigrazione Parliamo E l'atteggiamento del governo La sensazione mia perlomeno È che Dietro ai comportamenti Ci sia un punto di vista Parte un punto di vista Nel quale prevale Il bisogno della sicurezza Rispetto al bisogno di accoglienza Terzo elemento Immigrazione illegale Immigrazione illegale Noi stiamo parlando Di immigrazione illegale Immigrazione illegale I flussi Decreto flussi 80.000 Metà e metà Fra a tempo indeterminato E a tempo determinato Come quelli che noi vogliamo Poi è complicato Ma quelle sono regolamentazioni Sono delle sanatorie Per chi già c'è Peccato che La richiesta Degli imprenditori Fonte imprenditoriale italiana È di 500.000 persone Attenzione Davide Tesario Quello è il consiglio dei ministri Il direttore di Leggo Quel consiglio dei ministri Ha prodotto qualcosa Ha proposto Ha prodotto un decreto Che vi faccio vedere Questo è il cartello Guardate Ha prodotto un decreto Che istituisce un nuovo reato Morte o lesioni Durante la traversata Fino a 30 anni di reclusione Valido anche in acqua internazionale E aumentano le pene Sei anni di massima pena Per gli scafisti Fino a 16 anni Con aggravanti Il problema È che È materia del ministro Nordio Che Si è no Un anno fa Ma neanche Diceva così Guardate Nordio Occorre ridurre le nostre leggi Occorre individuare bene le competenze Occorre semplificare le procedure Inasprire le pene E creare reati Non serve assolutamente a nulla Erano tre mesi fa Prego direttore Ma diciamo che Sicuramente Inasprire le pene Non è Che può risolvere la questione Perché non credo proprio Che né chi sta partendo Su quei barconi Pensa a quale possa essere La pena E la conosce addirittura E tantomeno Possa interessare Gli scafisti E i trafficanti Di esseri umani Il problema Immigrazione però È estremamente complesso E adesso A me fa sorridere Questo botta In risposta Tra sinistra e destra Io faccio Il giornalista E mi faccio Delle domande Soprattutto Allora C'è un dossier Delle Nazioni Unite Che dice Che nei prossimi Sette anni Nel 2030 Ci saranno Settecento milioni Di migranti climatici E di migranti economici Allora noi dobbiamo Comprendere Cosa fare Noi dobbiamo capire E lo dobbiamo capire Nel nostro Parlamento Con il confronto Quanti di queste persone Possiamo portare Nel nostro Paese E come Che lavoro gli diamo Gli diamo dei sussidi Attenzione Se diamo dei sussidi A loro Forse li dobbiamo Togliere a qualcun altro Le case Le scuole Allora Stabiliamo Assolutamente Quante sono Queste persone Forniamole Perché forse Vedremo come andrà Potremmo essere Ma stiamo per aprire La pagina economica Ancora non ci siamo Potremmo essere messi Addirittura Dario Laruffa Guardate che Anche dipende Da come pensa Se c'è un approccio Allora Qua c'è il tema Del giorno Che non possiamo Non trattare Il tema Della classe dirigente Dei Fratelli Italia Con il Drammatico tema Del manager pubblico Nominato da Giorgia Meloni Che dovendo citare Un Un precedente Dando un Diciamo Un precedente letterario Alla lettera Che manda I componenti Del suo Consiglio D'amministrazione Sceglie questo Discorso Di Benito Mussolini Che rivendica La responsabilità Politica Dell'omicidio Matteotti 3 gennaio 1925 Guardate Così Come riprodotto Il film Si dice Il fascismo È un'orda di barbari Accampati nella nazione È un movimento Di banditi E di predoni Si insena La questione morale E noi Conosciamo La triste storia Delle questioni Morali in Italia Ma poi Signori Quali farfalle Andiamo a cercare Sotto l'arco di Tito Ebbene Dichiaro qui Al cospetto Di questa assemblea E di tutto Il popolo italiano Che io assumo Io solo La responsabilità Politica Morale Storica Di tutto quanto È avvenuto Ma lei Flavio Tonsi Si è detto Un po' fascista Ma scherzava Allora Era la trasmissione Era un giorno Da pecora Però dopo Mi piacerebbe tornare Anche su Cutro Visto che Hanno parlato tutti Lungamente Io ho parlato Un minuto e mezzo No avete parlato Tutti Un minuto e mezzo Se vuole andiamo cromettare Le parti Quando hanno parlato Perché ci guarda La televisione L'ha capito benissimo Ciò premesso Era la trasmissione Un giorno da Pekra Dove ho fatto presente Che Mussolini Da un certo momento in poi Ha fatto dei disastri Ne narra E come? No diceva Ha fatto anche cose buone No no Era dei disastri Ma era da un certo momento Di non interrompere E di parlare pochissimo Magari posso chiedere La stessa cosa Da parte vostra Grazie Perché far perdere il filo È un'arte anche quella Vero cercare di far perdere il filo A chi la pensa diversamente Non è bello A me c'è più paura il filo A dire la verità Però lo riprendo Allora Stavo dicendo Stavo dicendo Che ha fatto anche cose buone Io ho detto Mussolini A un certo punto in poi Le leggi razziali Tutta una serie di misure Antidemocratiche Sbagliate Terribili Con delle conseguenze terribili L'alleanza con la Germania E tutto quello che ci va dietro Prima C'è stata Una fase Dove La Liri Le riforme sociali Le bonifiche Era successiva a quel discorso Su Matteotti E tutto quello che lei sta dicendo Io sto dicendo Non è che Si comprendi Quello che ha fatto Stalin Quello che ha fatto Mussolini Quello che ha fatto Lenin Non è tutto buono O tutto cattivo Ha fatto tantissime cose Sbagliate Terrificanti Mussolini Qualcosa di buono Ha fatto La professoressa Scatta il voto Sul libretto Si può avere il coraggio Di dirlo Dopodiché Invece Chi Il coraggio Di dirlo La faccia Chi cita quel discorso Chi cita quel discorso Ha fatto una cosa Improvida E sbagliata Perché era Una cosa Da evitarsi Non vi voglio tenere Sul discorso del fascismo Vi voglio tenere Sul discorso della classe Dirigente Dirigente Voleva intervenire Di Battista Ma avevo chiesto La parola a Tabaccio E poi guardate C'è Don Martoriello Sono temi che ha pure studiato Ti rendiamo conto Nel 2023 Si sta parlando O di Mussolini O di Stalin O del karaoke Durante il compleanno O di Wagner O di quanto Wagner Incide sull'immigrazione mondiale È una roba A me Ripeto Di quel compleanno Floris Non me ne frega niente Mi preoccupa francamente Per la democrazia italiana Vedere Angelucci Un senatore della Repubblica È proprietario di Libero Del tempo E speriamo Dragoni Che non si compri la verità Perché la verità Si può condividere O meno la linea Ma fino ad oggi È stato un giornale libero E per me Un senatore della Repubblica Prima di Forza Italia E poi della Lega Non dovrebbe essere proprietario Di tre importanti giornali In nostro paese Comunque io Non sono di sinistra Sì è vero Dieci anni fa Era pure peggio Cioè è vero Infatti lo contrastavamo Oggi invece Non si parla più Di conflitti e interessi Tra politica editoria O tra politica finanza Io non sono di sinistra Non mi sono mai permesso Di dire mani sporche di sangue Io ho soltanto ricordato Beh non sei tanto di destra Non sono neanche di destra Assolutamente no Per me sono categorie Assolutamente superate Sei un po' più a sinistra Scusate Avete votato insieme A Draghi E al Partito Democratico E anche alcune Per me porcate In un'emergenza Nelle cose Per cui per me Non è destra Nelle sinistra E diciamo france di destra Per me il discorso Dovrebbe andare un po' oltre Però Non l'ho promesso io Il blocco navale Prima Tosi In maniera molto onesta Ha detto Frasi dette in campagna elettorale Ma si riferiva A delle frasi dette Dall'attuale Presidente Del Consiglio Dei Ministri Non dall'ultimo arrivato Dal 2017 L'abbiamo trovata Io quando il Movimento Non fece una cosa Rispetto anche al Tav Io chiesi scusa Anche se non stavo al governo Perché per me Il rispetto di quel Che si dice in campagna elettorale È una roba sacra Perché per questo Il cittadino smette di votare Ed è un problema Legato alla democrazia Mauro Mazza Poi arriviamo a Tabacci Con la domanda Sulla classe dirigente Voleva replicare su questo Però non c'entra Con lo scemo del villaggio di oggi Questa è un'altra cosa Di oggi ha detto bene Perché ce ne sono Sì Però Ce ne sono pareti Ogni settimana Qualcuno Ha ruoli importanti Il Mario è scostetto A dimettersi oggi Non citava Mussolini Faceva catenacce Quello di alto gradimento Che diceva Quando c'era lui Caro lei E quella roba lì È il cretino Che a volte prevale Allora Scusi però Qui non stiamo parlando Di lo scemo del villaggio Stiamo parlando Di il presidente Di una società Che doveva gestire Un software E ha fatto lo scemo E si è dimesso Dalle 5 minuti Abbiamo quel cartello Con le tante gaffe Fatta da questa Classe dirigente Lo troviamo Cristina Prego Tabacci La classe dirigente Guardi E la classe dirigente Ne so Adesso Il giorno Oggi Domani Ma scusi Ma come si può nominare Uno che tira fuori Una cosa così Si camuffava Da persona intelligente Evidentemente Ma scusa Ma intelligente di cosa Il cretino si camuffa Ma uno che va a utilizzare Quel testo lì Ma era responsabile Di un sito Chiamato Mussolini Diciamo È d'ignoranza clamorosa All'offensivo Provocatorio Nominato dal governo A svolgere una funzione pubblica Ma lo facciamo perdere È un ex Per fortuna nostra Don Martoriello Ci faccia Fare un passo indietro Che idea si è fatto Finora Di un tema Che alla Chiesa tutta È molto caro Quello degli immigrati Ma in generale Alla gestione Della cosa pubblica E il Papa Francesco Ce lo ricorda Continuamente Ogni domenica Quasi nelle Angelus E nelle Udienze Ci richiama Io credo Io credo che L'impegno della Chiesa Su questo tema È gigantesco Non soltanto Su luoghi In cui si Realizzano Queste tragedie Di cui questa Non è che l'ultima O la penultima Perché poi Ce n'è stata L'altra Verso la Libia Ma anche Nelle nostre Realità parrocchiali Io provengo Dalle ultime parrocchie Le ho avute A Torre Angela Torpignattara E ora A Cinquina Zone dove La presenza Di immigrati È molto alta Sono sì Dai quartieri romani Giustamente Sì sì Una cosa che Io ho imparato Come sacerdote Ma anche Come essere umano A uscire un po' Da questa categoria Del migrante No? Dentro la quale Pace un pochino Di tutto E Mi sono un po' Messo in una perdita Diciamo così Di tempo Di dono del tempo Nell'ascoltare Le storie Di questa gente Perché a volte Si sente un po' L'idea Il pensiero Che questi vengano Così Per cercare Semplicemente Nella migliore Delle ipotesi Fortuna O Stravolgere Le nostre tradizioni Culturali In realtà Ci sono situazioni E storie Che io sfido Chiunque Anche noi stessi Se stessimo là Nel non fare La stessa Identica situazione Poi Sicuramente I governi Le istituzioni Dovranno Valutare Le strade Migliori Ma il Papa Anche lo ha detto Più volte No? Di Aiutare L'Europa Deve aiutare Il nostro paese L'Italia Eccetera Però C'è un dovere Per noi credenti Naturalmente Di accoglienza Insomma Senza Dover per questo Chiedere passaporti O Certificati penali C'è un dovere Grande Quello che mi ha molto colpito Favorevolmente Che Rispetto a questi dibattiti In cui Effettivamente Me diceva il professore Ci sono poi Delle ideologizzazioni Dietro Che poi In una certa misura Possono essere anche naturali La risposta Di quello che Lei chiama Sempre il paese reale Cutro ce l'ha dimostrato Questa gente Che si è buttata In mare Nel cercare Questi I superstiti E raccogliere anche I cadaveri Qualche cosa Di estremamente grande E quello che ha detto Il parroco Di Cutro Mi ha colpito Arriviamo sempre tardi E questo ci deve far riflettere In modo particolare A chi Ha la gestione Diciamo Di certe Di certe Regolamenti Di certe norme Di non continuare Ad arrivare tardi Allora Il cartello delle gaff Che vi avevo Promesso Lo vediamo Piante dosi La disperazione Non giustifica Viaggi pericolosi Valditara La preside Se persiste Vedremo se prendere misure Ricordate Il caso Di Firenze La russa Un figlio gay Mi spiacerebbe Come fosse milanista San Giuliano Dante E' stato il fondatore Del pensiero di destra In Italia Ma questo Diciamo E' solo il primo Di due o tre cartelli Avevamo preparato Ma il tema Dei temi E' indubbiamente L'economia Andrea Scazzola Fotografa I paradossi Della città Di Milano Incredibile Inflazione o no Chi può Ancora si concede Il massimo La perla Di Mar Caspio Questo storione Che si chiama Alma Sbelluga Che Alma In lingua persiana Vuol dire diamante 12.000 euro Al chilo Ecco la Milano Al caviale Che ama Trattarsi bene Ci sono quelli Che possono permettersi Italiani Lei non ha paura Possiamo schiacciare Schiacciamolo Influencer su Instagram Gin Tonic Ristoranti Ha fatto fortuna E adesso Si gode la vita Questa qua Costata sui 300 Qualcosa Settimana prossima Mi arriva la nuova La 296 Questa è più adatta Per i viaggi Diciamo Ma anche questa Sui 260 280 Poi dipende Dagli option Che si mettono E questo è il mio regno Il Giniul In platino Costa sui 300 Quel monkey Di Stiller Cut Anche 450 500 Qui vengono anche Per scampi Caviale Champagne Il più caro 100% Pinot nero Sui 4.000 euro Le bottiglie Quelle speciali Le beve anche da solo L'ho bevuto l'altra sera io Questa qua Una bottiglia A 7.000 euro Italiani che se lo possono Permettere Ci sono Tantissimi Secondo me Il lusso È quello che non soffre Non sente la crisi E meno male Dario Laruffa I prossimi temi Verso i quali Si deve trovare pronto Il governo L'ordine del giorno Giovedì prossimo Consiglio dei Ministri La riforma fiscale Primo passaggio Di un grande Elemento anche Di promessa Di promessa Del governo E di speranza Da parte dei cittadini Se ne sa poco Da quel poco Che si sa È che il governo Finora è riuscito Ad avere Il consenso Degli imprenditori Che dicono Si va nella direzione giusta Ed è riuscito A mettere assieme Cosa che non accadeva Da tempo I sindacati Che sembrano pronti A fare uno sciopero Vedremo I quali dicono Si va nella direzione opposta Siccome non se ne sa molto Possiamo dire Di che si tratta Rapidissimamente Chi potrebbe guadagnarci E chi potrebbe perderci Nella prima fase Questo è l'elemento fondamentale Perché il vero elemento Di preoccupazione Per alcuni E di speranza Per altri Sarà quando si arriverà La cosiddetta Fatta ex Cioè la tazza Una sola È quello uguale per tutti Però questo accadrà a fine Legislatura Adesso si fa una cosa Molto più modesta Cioè si passa Dalle attuali Quattro alipode Grandi percentuali Sulle quali si vaga l'IRP Fa tre E fino a 15 mila euro Non cambia nulla Oltre i 50 mila euro Non cambia nulla Cioè 43% Ricordiamo È la tassa principale Dai Fra i 18 e i 50 mila Bisogna vedere Bisogna vedere Se ci sarà Un'unica imposta Al 28% O al 27% Che cosa cambia Cambia poco A grandi spanne Chi ci guadagna Guarda Di spanne ci guadagna Paradossalmente Anche politicamente Ci guadagna Soprattutto chi sta Fra i 18 e i 50 mila euro L'ordi annui Ci guadagna intorno Ai 4-500 euro L'anno Che non è granché Però Buttali via Il problema È che in quella fascia E' anche interessante In quella fascia Di lavoro dipendente Di pensionati C'è gran parte Più dell'elettorato Del PD Che dell'elettorato Del centro-destra Paradossi Dell'essere di destra O di sinistra A prescindere Davide Desario Le tornano i conti? No La spiegazione È stata perfetta Quella del collega Laruffa Però Dobbiamo dire Che in questo momento Non conosciamo bene Come staranno le cose Non sappiamo Soprattutto Ad esempio Quali saranno Le detrazioni Quindi paradossalmente Anche se cambieranno Le aliquote Non sappiamo Che cosa Si potrà detrarre E come E quindi Chi ci guadagnerà Perché c'è un costo Perché c'è un costo Ragoni E da qualche parte Bisognerà recuperare E così Ragoni Baldino Allora I parametri Per valutare Una riforma fiscale Sono due Primo Deve esserci Una mancanza Di gettito Cioè Devono rimanere Più soldi in tasca Ai contribuenti Perché se così Non è Non funziona Non è una riforma fiscale Come si deve Secondo Deve essere Una riforma fiscale Che semplifica Quindi Non abbiamo In questo momento Ulteriori elementi La semplificazione Lo si vede Vediamo Gli effetti Suggetti Ma noi Aspettiamo di capire Se questa riforma Annunciata Questa riforma Il governo Avrà il coraggio Avrà il coraggio Finalmente Di prendersela Non con i poveri Non con i pensionati Non con le famiglie Che sono in difficoltà Ma con i grandi colossi Del web Con chi fa Extra profitti Migliardari Con le transazioni Finanziarie Quindi il problema Vero è Dove le trovano Le coperture Per fare questa riforma fiscale Non vorrei Che i soldi Escono Non vanno trovati Aspettate Bruno Tabacci Ma Meno aliquote Non è un modo Più rozzo Per misurare il reddito Non servirebbero Più aliquote La riduzione Delle aliquote Ha come effetto Quello di incidere Sul tema Della Progressività E poi La questione di fondo è Ma il servizio Che abbiamo visto Su Milano Presuppone il fatto Che c'è un'economia Sommersa Che è il 20% Del paese Rispetto al quale Non c'è nessuna possibilità Piccola pausa Per noi Allora Vediamo un po' com'è Allora È il momento Di tirare il fiato Sta per arrivare Il maestro Michelangelo Pistoletto Tra pochi istanti Abbiamo l'onore Di avere con noi oggi Il maestro Michelangelo Pistoletto Buonasera maestro Benvenuto Grazie Per aver accettato Il nostro invito È uno degli artisti Più rappresentativi Di questo secolo Tutto il mondo Ce lo invidia In libreria Con la formula Della creazione Edito da Città dell'arte Edizioni E parleremo del libro Parleremo della sua opera Tra l'altro Dal 18 marzo Al 15 ottobre A Roma Al Chiostro del Bramante E a Milano Dal 23 marzo Al 4 giugno Saranno esposte Alcuno dei suoi Più significativi Lavoro Allora Iniziamo dalla sua Visione artistica Per presentarla Al nostro pubblico E Le sue opere Più famose Sono i quadri specchianti Ci spiega Di che si tratta I quadri specchianti Nascono dalla mia Ricerca iniziale Io cercavo La mia identità Quando ero giovane Ragazzo E Attraverso l'arte Moderno Ho pensato Che potevo scoprire La mia identità E Per riconoscermi Mi sono messo Davanti allo specchio Per fare L'autoritratto Mi sono partito Dall'autoritratto Chiedendomi Chi sono io Cosa ci faccio Al mondo E quindi L'autoritratto Mi ha permesso Di trovare me stesso Davanti a me stesso Ma per me Non era sufficiente Vedermi Dovevo anche capirmi Chi sono E allora Ho visto che Lo specchio Che sta sempre Di fianco alla tela Tradizionalmente Per fare l'autoritratto Era E veramente Il luogo Del potere Il potere Raffigurativo Ho cercato Man mano Di far diventare Specchiante La tela Sul cavalletto E la tela Mettendo Del colore Nero Verniciatissimo Ha cominciato A diventare Lucido Specchiante E quindi Ho cominciato A ritrarre Me stesso Guardandomi Nello specchio Tela E non più Specchio Di fianco Quindi io Sono entrato Direttamente Nell'opera Anche Come essere vivente Mi vedevo Muovere Dietro Alla mia immagine Questo è stato Il principio Poi sono passato A un materiale Molto Molto più Efficace Sul piano Diciamo Di riflessione Che è L'acciaio Inossidabile Lucidato A specchio Questo acciaio Inossidabile Mi ha permesso Di vedere Davanti a me Tutto ciò Che sta Alle mie spalle Quindi si è aperta Una prospettiva Che non è mai esistita La prospettiva Rinascimentale Sempre quella Che guarda Verso Qualcosa Che sta davanti A noi Guarda Un futuro In movimento Davanti a noi Lo specchio Mi mostra Tutto quello Che sta davanti A me Tutto Ma sta dietro Le mie spalle Quindi la prospettiva Tradizionale Tradizionale Quella che abbiamo Conosciuto Che ci porta Verso questa Avanguardia Senza fine Ci ha portati Anche verso Una Avanguardia Precipitosa Verso Che precipita Verso Un abisso Quindi diventa Un guardare dietro Di spazio Ma anche di tempo Nella sua ottica Lo spazio Il tempo Perché Nello specchio Nello specchio Non abbiamo Non abbiamo Soltanto le immagini Fisse Abbiamo le immagini In movimento Un'immagine Che io vedo Nello specchio In questo istante Prima non c'era C'è Poi non c'è più E' il cambiamento E' il cambiamento E' la combinazione Noi vediamo La combinazione Di tutti gli elementi Giorno Noto Notte Ore Che passano Tutto Il tempo Diventa il protagonista Fenomenologico E diventa Un'opera Fenomenologica Il tempo E lo spazio E lo spazio Tempo Ora arriveremo Al suo libro Alla sua formula Perché c'è una formula Attraverso cui capire L'attività dell'uomo Fondamentalmente E la vita Della persona Però la sua arte È sempre stata Anche intrisa E legata alla società Lei negli anni 90 Ha creato La città dell'arte Lei dice Bisogna porre L'arte Al centro Della responsabilità Della trasformazione sociale Che significa Esatto Beh vede Io come artista Ho capito Fin da ragazzo Che tutto quello Che stava succedendo Intorno a me Ricadeva su di me Io come persona Ero in qualche maniera Vittima E anche responsabile Di quello Che mi stava succedendo Ma in che misura Ero responsabile Beh Ero responsabile Secondo un mestiere Che avrei potuto fare Eccetera Il mestiere dell'artista Mi dava la massima responsabilità Perché avevo la massima libertà Massima libertà Quindi più sei libero Più sei responsabile E questo guardi che non è tanto Non si dà per scontato Non è così L'arte Esiste la libertà È totalmente libero Col proprio segno Può dire Questa è la mia bandiera Questo è il mio partito Questa è la mia religione Col proprio segno Questa è la massima libertà Che io ho imparato Negli anni 50 Ho detto Ma adesso cosa ne faccio La devo usare Allora ho assunto Sempre di più Attraverso questa libertà Una responsabilità Lo specchio Lo specchio Il quadro specchiante Mi ha portato Il mondo Dentro all'opera Il mondo Lo specchio Lo specchio È È un elemento Che di per sé Non ha immagine Quindi È un elemento Zero Immagine Ma è proprio perché Non ha immagine Che si può permettere Di riflettere Tutto l'esistente E il suo segno Trasforma l'esistente È il mio segno È il segno Dell'infinito Dell'infinito esistente Dell'infinito Che Allora ecco Qua dobbiamo andare Un po' sul complicato Quindi ora ci organizziamo Allora Il segno dell'infinito Come l'abbiamo studiato a scuola È sostanzialmente Un otto No? Sì Qua c'è un cerchio Con due cerchi Ecco Il simbolo di infinito Matematico È fatto di Una linea Che si incrocia Creando al centro Un punto Quel punto è L'infinito È quell'infinito Che Nello specchio Passa continuamente Non è mai fisso È infinito Perché non finisce mai Può succedere di tutto Lo specchio sempre lo rifletterà È l'infinito Può succedere Nello spazio Nel tempo Nel movimento Corrisponde di infinito Corrisponde esattamente Al fenomeno che io ho realizzato Con il quadro specchiante Dove c'è l'infinito Allora Per tradurre il quadro specchiante Nel simbolo Utilizzando il simbolo di infinito Ho incrociato la linea due volte Guardiamola Quindi sono Due oltre sovrapposti Diciamo Ecco Due infiniti sovrapposti Fanno tre spazi La linea invece di incrociarsi Una volta sola Si incrocia due volte E sono tre spazi E crea al centro Un terzo cerchio Che non esisteva E che è il finito Dentro all'infinito Dunque è la vita La fisicità L'universo fisico Dentro all'infinito Dal quale L'universo viene Il pensiero Diciamo La parola Il logo Ma è una visione religiosa Quella che propone No È una questione Fenomenologica Perché All'inizio Abbiamo due elementi Da una parte Abbiamo spazio-tempo Dall'altra Abbiamo Massa-energia All'interno Abbiamo un vuoto In quel vuoto Massa-energia E spazio-tempo Si incontrano E producono L'universo Cioè Producono Quella fenomenologia Dell'esistente Che poi si dilata Che si dilata Pian piano E diventa L'esistente Ci torniamo Passiamo per tre fenomeni Come dice lei Per tre cose Che succedono La guerra L'immigrazione E la vita economica Lei parla di pace preventiva Io parlo di pace preventiva Perché La pace È sempre stata considerata Una conseguenza Della guerra Si fa la guerra Si fa la guerra E poi ci sarà la pace E poi Quando io ho cominciato A scrivere Questo libro Che è uscito Nel 2003 Il terzo paradiso Dicevo Che nel 2003 C'era stato Questo annuncio Da parte Degli stati Bush e Blair La guerra preventiva Che era La guerra preventiva Io ho detto Questo è spaventoso Dopo tante Tante aggressioni Dopo tante Situazioni di guerra Di tensione Noi Dopo la caduta Del muro di Berlino Dopo tutto questo Dobbiamo ancora parlare Di guerra preventiva Allora io ho detto Bisogna adesso Parlare di pace preventiva La pace deve venire Prima della guerra Se no Non avverrà mai Allora Lei dice Noi consideriamo La pace Come la chiusura Della guerra Proviamo a invertire E proviamo a considerare La guerra Come la fine della pace La guerra Come la fine della pace Io Nella mostra Che sto facendo A Milano Ho chiamato appunto Il labirinto Della pace preventiva Ho fatto un labirinto Di cartone Con dentro Le opere significative Di questo labirinto Del mio lavoro Il labirinto Rappresenta La via verso Minosse Minosse E che cosa è È il mostro È la guerra È il mostro Che ci divora Che è lì pronto Per divolare Tutti La società Ecco Allora io Ho messo la guerra Ed ho fatto Un riferimento A Picasso Che aveva esposto Per la prima volta A Milano In quella stessa sede Nel palazzo Nel palazzo Delle cariate Di Milano Qui aveva esposto Guernica In Guernica C'è Minosse C'è il mostro C'è il mostro Io voglio Che il percorso Per arrivare A Minosse Non ci porti più Alla guerra Ma che ci sia Il filo d'Arianna Che ci riporti fuori Ok Ha invertito Il percorso L'immigrazione Guardate questa foto È una delle opere Simbolo Del maestro Pistoletto Il tavolo Che ha la forma Del Mediterraneo Circondato da sedie Che provengono Da diversi paesi In questa rappresentazione Il mare unisce È impossibile Non pensare A quello che sta succedendo In questi giorni Io l'ho fatto Questa cosa Nel 2002 Pensando proprio A questo A questo Mediterraneo Che Era Diciamo Il cuore Di Tre Tre Continenti Tre continenti Si affacciano Al Mediterraneo L'Asia L'Africa E l'Europa E poi Con riflessi In tutto Il mondo Allora Ho pensato Che I paesi Del Mediterraneo Dovevano diventare Come un nuovo Parlamento Culturale Per cambiare Le cose Mettendo tutte Le sedie Che sono venute Intorno Le sedie Che vedete Intorno a quel tavolo Che è uno specchio Quello che vedete L'Italia È ritagliata Nello specchio Un tavolo Specchiante Dove Chi si siede Intorno alle sedie Si rispecchia Oltre che Vicendevolmente Anche nel Mediterraneo Nel Mediterraneo Mettendo come specchio Della società Che lo circonda Queste Queste sedie Sono state donate Dai diversi paesi A quel tempo Per cui sono Veramente Rappresentative Di queste Bisogna avere la capacità Di vedersi Come una persona Che si siede Alla sedia E niente di più Non c'è un trono In mezzo a quelle sedie Alla Farnesina Hanno uno Di questi tavoli E lo hanno usato Più volte Già Per incontri Mediterranei Quindi non è Quindi vale Come augurio Maestro Ricchezze e povertà Vi faccio vedere Un'altra opera Del maestro Un'installazione iconica La venere degli stracci Emblema dell'arte povera Lei l'ha realizzata In 67 Ma ancora oggi È estremamente attuale Di cosa parlano Questi stracci E cosa vogliono significare La venere La venere È l'idea Della perpetua bellezza Viene dall'antico Continuerà nel futuro Però questa venere Abbraccia Questa massa di stracci Che sono Che sono i rifiuti Sono i rifiuti Della società E questi rifiuti Che stanno invadendo Il pianeta Noi pensiamo Questo l'ho fatto nel 67 Dal 67 a oggi I rifiuti I rifiuti di abiti Usati Che vengono dagli Stati Uniti Dai paesi Dell'Ovest Stanno invadendo Ci sono delle fotografie Delle spiagge Africane Colme di stracci Così come ci sono Le isole di plastica Nel mare Quindi i rifiuti Noi stiamo distruggendo Questo pianeta Stiamo Depauperando Stiamo sacrificando Questo pianeta Al consumismo Ecco Adesso dobbiamo Cambiare metodo Capire che cosa succederà Al consumismo Assumere una nuova dimensione La nuova dimensione Quando i rifiuti Superano i vantaggi La venere La venere Rigenera Questi rifiuti E la rigenerazione E' lì che Li fa diventare bellezza Li fa diventare colore Li fa diventare Li fa diventare Qualcosa Che lei possiede E questa è la cosa E non più lo scarto Guardate ora Torniamo al nostro simbolo Quello che vi abbiamo spiegato In precedenza Allora Questo è anche il simbolo Del terzo paradiso Lei dice La soluzione Di tutti i conflitti Terzo paradiso E' stato quello Che è nato Proprio quando Io ho pensato A questa pace preventiva No? Ho pensato Che ci voleva Un simbolo Efficace Perché si potesse Parlare Di una pace Di una pace Organizzata Voluta La pace sta Nel mezzo Tra Il mostro Della guerra E La Meraviglia Della Coscienza Della conoscenza Eccolo qua Allora Lei diceva In mezzo c'è la pace Tra Da una parte Abbiamo il mostro Dall'altro Abbiamo la virtù Noi il mostro Non possiamo evitare Di averlo Perché tra positivo E negativo C'è sempre conflitto Ma se vogliamo Avere una società Nuova Dobbiamo mettere Il mostro Da una parte Dunque la guerra E dall'altra parte La virtù E quindi L'amore E al centro Avremo la pace La formula Della creazione Dietro ogni artista C'è una visione Del mondo Ringraziamo il maestro Pistoletto Per averci presentato La sua Davvero Grazie tantissime Bentornato Nando Pagnoncelli Cosa abbiamo Domandato Agli italiani Questa settimana Buonasera Buonasera Innanzitutto abbiamo chiesto Tenuto conto Dei temi Di cui si è parlato Nelle ultime Nelle ultime settimane Se il governo Meloni È all'altezza Della situazione I giudizi Sono ovviamente Polarizzati Lo vediamo Con il cartello 1 42% Ritiene che non sia All'altezza Mentre il 41% Lo ritiene All'altezza Giudizi Ovviamente Influenzati Dall'orientamento Politico Qui l'ago Dalla bilancia Lo fa L'elettorato Astensionista Che come sappiamo È il gruppo più Numeroso Nel paese Poi abbiamo chiesto Che cosa pensano Di un altro tema Su cui si è polemizzato Molto Nel corso della settimana Il compleanno La festa di compleanno Del leader della Lega Salvini In occasione Della quale C'è stato un karaoke A cui hanno Preso parte Diverse persone Tra cui appunto La Presidente Meloni E il segretario Salvini Abbiamo raccolto Alcune delle frasi Due in particolare Abbiamo chiesto Con quale di queste due Maggiormente d'accordo Lo vediamo Con il cartello 2 Il 44% Ritiene Che sia stata Una brutta scivolata Che sarebbe stato Meglio evitare Questo episodio Ma il 40% Ritiene Che non ci sia stato Nulla di male E che in realtà C'è stata più Una polemica strumentale Il 16% Non si è espresso E poi siamo passati E poi siamo passati A parlare di Ellie Schlein Quindi la neosegretaria Del Partito Democratico Abbiamo chiesto Come definirebbe Ellie Schlein Lo vediamo Con il cartello 3 Per il 42% Rappresenta Un'opportunità Di rinascita Del PD Ovviamente Tenuto conto Del profilo Della neosegretaria E dei temi Che ha messo Al centro Della sua agenda E poi però Invece Un 31% Ritiene Che sia Un'altra leadership Destinata A durare poco Non dimentichiamoci Che il PD In 15 anni Ha alternato 9 Tra segretari E reggenti E il 27% Non si esprime Ultima domanda I temi economici Sappiamo quanto Siano al vertice Delle priorità Dei cittadini Abbiamo chiesto Al campione Interpellato Ieri sera Se si sentono Le persone interpellate Tranquille Rispetto a quanto Sta facendo Il governo Per fronteggiare I problemi economici Lo vediamo Con il cartello 4 Qui il 50% Non si sente tranquillo 31% È piuttosto rassicurato Vorrei sottolineare Che sono soprattutto Le persone Che appartengono Al ceto medio E le persone Che risiedono Al sud Quelle che evidenziano Il maggior livello Di preoccupazione Allora Vi presento Francesco Prudenzano Segretario generale Di Confintesa Alessandro Capecchi Fratelli Italia Consigliere regionale In Toscana Il segretario Del partito Socialista Italiano PSI Vincenzo Maraio Buonasera E Paolo Panerai Giornalista Editore Dirigente sportivo In libreria Con le mani Sull'informazione Per Solferino Allora Iniziamo Da Alessandro Capecchi Il dubbio Se Il governo Abbia in mano Saldamente Il timone Del paese Viene dalla conferenza stampa Fondamentalmente Di cutro Un po' Di confusione Guardiamo Mi pare che le risposte Siano state Chiare Ok Perfetto Secondo voi no E quindi Voi state dicendo Che C'è stata una volontà Scusate Scusate Non è un dibattito Non riesco a capire Non è un dibattito In che cosa Si ritiene Allora faccio io Provo a capire Provo a capire Il problema Ok Scusa Non è un dibattito No Si No 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 Non puoi fare così Però eh Non è professionale Certo Certo ma dopo l'incidente Non prima dell'incidente Eh Lui dicono anche prima Abbiamo risposto in Parlamento Loro parto La ricostruzione in Parlamento Posso Scusate Scusate No 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 Scusi Sono io Ho fatto Confusione Sul prima e sul dopo Ok Ok Matteo C'è la ricostruzione Che io ho fatto In ben cinque Informative In Parlamento Sta sfuggendo qualcosa Al governo Sul tema Immigrazione No Io penso di no Credo che ci sia Una pressione Che viene definita Diciamo Di stampo planetario Quasi Eh Da tutti i mezzi Di informazione I numeri sono triplicati Da Rispetto allo scorso anno Siamo a circa 20.000 sbarchi Rispetto Ai 5.500 Dello scorso anno Complici le condizioni Del mare Complici probabilmente Qualche manovra Di qualcuno Che tenta di destabilizzare Non tanto Non solo l'Italia Quanto L'Europa Certamente Quello che è successo Ha colpito tutti noi E Lascia Diciamo Attoniti Le tragedie Che succedono In queste condizioni D'altra parte Credo che il governo Stia mettendo in piedi Una risposta Che è coerente Con quanto detto Negli anni E con quanto detto Anche in campagna elettorale E gli effetti Non si possono vedere Certamente Lo potreggio Maraio Cutro rappresenta Senz'altro Il primo scivolone Di questo governo E non a caso La protesta di piazza Più cospicola L'abbiamo avuta A Cutro Contro La Giorgia Meloni Questo Ci dispiace Ma Non ci sorprende Che proprio Il tema Dell'immigrazione Sia il tema Sul quale È caduto Questo governo Perché affronta Questo problema Quello dell'immigrazione Con una posizione Ideologica E non con una posizione Politica D'altronde Un governo Che a livello europeo Continua A chiedere Il sostegno A sostenere L'alleanza Con paesi Come la Polonia E l'Ungheria Contro invece La centralità Dell'Europa E poi chiede Paradossalmente Un aiuto Per far fronte I migranti È chiaro Che è un governo Che ha poca credibilità E mi chiedo Che fine ha fatto La Giorgia Madre Cristiana Donna Che si è voltata Dall'altra parte Rispetto ai bambini E alle donne Morti a mare Nelle coste italiane No Così Credo che sia Come dire Un po' troppo provocatorio Io voglio ricordare Che l'Inghilterra E la Francia Hanno annunciato Due giorni fa Un accordo Per il quale L'Inghilterra Dà 43 milioni di euro All'anno Per rafforzare In Francia I controlli Per evitare L'immigrazione clandestina E voi capite bene Non è esattamente La stessa cosa Ora Arriveremo Torneremo a Maraio Allora Panerai Il suo libro parla Dell'importanza Dell'informazione Seria Professionale Profondamente libera Che idea Si è fatta Del rapporto Che ha Giorgia Meloni Con la stampa Fino a quando È successo L'episodio Di cui avete parlato Il rapporto Non era Negativo Nel senso Che è sempre stata Disponibile A rispondere A tutte le domande È chiaro Che ha una posizione Che non coincide Con quella Di alcuni giornali Che sono In un caso Soltanto Assolutamente Indipendenti Cioè Corriere della Sera Gli altri Diciamo Hanno delle posizioni Storiche Molto forti Che Anche con Un cambio Di proprietà Da Ingegner De Benedetti Alla Fiat È rimasto Anzi Forse Più Marcatamente A sinistra Probabilmente È una strategia Il presidente Di Exor Che controlla I Tedi Per Per poter Essere coperto A sinistra Però sempre Domande sono Possono venire Da dovunque Ma la domanda È domanda Diciamo Al di là Di perché uno La fa Poi uno Se vuole Risponde Oppure no Nando Pagnoncelli E Prudenzano Anzi prima Francesco Prudenzano Dal suo punto di vista Questa vicenda Dell'immigrazione Cosa testimonia? Ma guardi In realtà È un fenomeno Decennale Non è che sta accadendo ora Dei momenti aumentano Di altri momenti Si riduce La sua intensità Comunque La sua comunicazione Mediatica Io non penso Che ci sia stata Una premeditazione Di nessun tipo Per quanto riguarda Queste ultime tragedie Certo che probabilmente C'era bisogno Di curare Un po' Medi particolari E c'era bisogno Di curare Medi particolari Anche durante La comunicazione Che è stata fatta Buone le intenzioni Per andare A cutro Ma in realtà L'organizzazione Il modo di esporre Il modo di comunicare Probabilmente Ha avuto un difetto Allora Nando Pagnoncelli Il cambio di sapore Di questo Governo Secondo alcuni Osservatori C'è stato Con la vicenda Del karaoke Qui facevamo Riferimento Noi Diciamo C'è un aspetto Morale Il trovarsi A una festa E cantare La canzone Di una Donna morta Annegata Ma c'è anche Forse un aspetto Un po' più Di sapore Di casta Noi siamo andati A vedere Chi c'era Guardi Di sapore Di sapore Di sapore Di sapore Di sapore Grazie a tutti. Allora, Pagnoncelli, è così che nell'immaginario si passa da underdog a potenti della casta? Ma non direi, diciamo che questo episodio, l'abbiamo visto con i dati del sondaggio, in realtà polarizza le opinioni. Cosa significa questo? Che l'elettorato di centrodestra tende a giustificare questo episodio e l'elettorato di centrosinistra più una serie di altri elettori estensionisti in realtà esprimono riprovazione. Però, ancora una volta, ci sono dei fatti che radicalizzano le posizioni indipendentemente dal merito. Non trarrei la conclusione che si passa da underdog a una situazione diversa. Siamo ancora in quella fase nella quale il governo gode di un consenso decisamente elevato, tenuto conto del fatto che stiamo parlando dei primi mesi dall'insediamento. Ci sono dei problemi, abbiamo visto che i temi economici preoccupano di più e sicuramente preoccupano di più rispetto a Karaoke. La vera prova, i temi economici. Andrea Scazzola, i ricchi e i poveri. E la sta eliminando che facciamo in modo che non pensino all'inflazione. Vengono qui, si divertono, spendono. Inflazione o no, chi può, ancora si concede il massimo. La perla di Mar Caspio, questo storione che si chiama Almas Belluga, che Almas in lingua persiana vuol dire diamante, 12.000 euro al chilo. Ecco la Milano al caviale, che ama trattarsi bene. Ci sono quelli che possono permettersi, italiani, sì. Lei non ha paura? Possiamo schiacciare? Schiacciamo, allora. Influencer su Instagram, Gin Tonic e Ristoranti, ha fatto fortuna e adesso si gode la vita. Questa qua è costata sui 300 e qualcosa, settimana prossima mi arriva la nuova, la 296. Questa è più adatta per i viaggi, diciamo, vedi? Ma anche questa è sui 260, 280, poi dipende dagli option che si mettono, sì. E questo è il mio regno. Il Giniuli in platino costa sui 300, quel monkey di Stiller Cut ha anche 450-500. Qui vengono anche per scampi, caviale, champagne, il più caro. 100% pinot nero sui 4.000 euro. Le bottiglie, quelle speciali, le beve anche da solo. L'ho bevuto l'altra sera io, questa qua è una bottiglia a 7.000 euro. Gli italiani che se lo possono permettere ci sono. Tantissimi. Secondo me il lusso è quello che non soffre, non sente la crisi, e meno male. Allora, dottor Prudenzano, cartello 18, i prezzi aumentano. A febbraio 13%, in qualche misura la corsa ha persino rallentato, però continua a aumentare. Una volta si diceva che era il caro energia, adesso qual è la ragione? Guardi, io ho visto questo filmato, francamente c'era proprio, io sono un rappresentante sindacale, francamente vedere queste cose dà fastidio perché rappresento lavoratori a reddito fisso che stanno discutendo, come è successo oggi, su come si deve ridurre il cuneo fiscale e adesso si sbattono in faccia, perché poi alla fine è come sbattere in faccia, tutta la ricchezza senza moderazione. Perché uno può essere anche ricco, ma in realtà c'è anche un modo di fare le cose. E questo dà fastidio moltissimo. Per quanto riguarda l'inflazione, finita la questione dell'energia, è ricominciata a salire i prezzi per altri motivi. Io non sono un economista, io penso che i flussi economici sono gestiti altrove, non in Italia, e noi abbiamo la necessità di gestire quello che possiamo nel nostro piccolo. Io penso che nel frattempo qualche decimo di punto scenderà per l'inflazione, per effetti di vari fenomeni di riduzione della spesa energetica, però abbiamo un problema grosso da affrontare, che è il nostro problema economico, che io continuo a dire che esiste un problema di debito pubblico, esiste l'interesse sul debito che ci spella tutti gli anni, e non è la stessa cosa che prende i soldi del PNRR. Perché quelli sono destinati. Allora, Paolo Panerai, quanto è effettivamente l'economia il terreno di prova di questo governo? E come la sta affrontando? L'economia coinvolge tutti quanti realmente, e non solo sul piano delle idee o dell'ideologia o delle posizioni politiche. Indubbiamente c'è un problema, che ha sottolineato bene il Presidente di Conferi Imprese, dicendo che la problematica è quella di non avere attenzione a quello che è il problema centrale dell'Italia, che è quello del debito pubblico. Un'azienda che avesse un debito pari al 150% o più del suo fatturato sarebbe fallita. Allora, certamente ci sono Paesi che sono esasperati da questo punto di vista, nel senso della critica all'Italia, ma non è ingiustificata. E allora non possiamo non pensare che ci debba essere un intervento da parte del governo su questo tema. Io credo che il Ministro Giorgetti ci stia pensando. Le soluzioni ci sono. Noi siamo per l'idea che siano messi in vendita i beni immobili che lo Stato ha trasferito agli enti locali, che concorrono al debito pubblico per circa 400-500 miliardi, e che sono beni che in questo momento principalmente costano agli enti pubblici, perché non è stata fatta poi una strategia di valorizzazione. E segnaliamo, e lo risegnalo stasera, che c'è la prima banca italiana, banca intesa, l'amministratore delegato Carlo Messina, che ha detto che è disponibile a fare dei fondi immobiliari locali dove mettere questi beni e raccogliere la sottoscrizione. Tutti sono i problemi, sempre gli stessi, che poi alla fine anche le soluzioni. Ma Raio, come sta affrontando il governo la questione economica? Intanto noi siamo in una condizione nella quale il nostro Paese è tra i Paesi con la più alta pressione fiscale. Abbiamo anche dei problemi legati alla burocrazia. C'è un eccesso di burocrazia nel nostro Paese ed è evidente che va integrato e va rinnovato il sistema fiscale che da 50 anni non ha una riforma complessiva. Io francamente, non soltanto per posizione ideologica, ma volendo soltanto citare i dati che citava Pagnoncelli prima, questo governo ha un calo di consenso nel ceto medio. Eppure, nella manovra fiscale che viene proposta, diminuisce le aliquote IRPEF nella parte del ceto medio, quindi la seconda e la terza. Da quattro si passa a tre, si accorpa quello legato al ceto medio di questo Paese. Significa che qualcosa non funziona, che il governo è assolutamente non in sintonia con quello che il Paese ha bisogno. Io vorrei che dalla manovra fiscale ci fosse una chiara indicazione che chi produce di più in questo Paese dà di più, chi produce di meno deve essere sostenuto. Capecchi, questo è l'unico dato negativo del sondaggio, in effetti. Vedete, è tranquillizzato da quanto sta facendo il governo nel fronteggiare i problemi economici. No 50, sì 31. Prego. Grazie. Io penso che il governo Meloni abbia annunciato tre grandi riforme nel corso di questo anno. La riforma fiscale, la riforma della burocrazia e la riforma della giustizia. Per esperienza personale, conosco i tempi della giustizia e sono incompatibili con un Paese normale, con gli imprenditori che vogliano investire. Uno se ha bisogno anche di un permesso edilizio per ristrutturare uno immobile magari acquistato da un ente locale, ci mette 3-4 anni per arrivare in fondo e quando è pronta l'operazione manca il mercato perché è andato fuori mercato. C'è la burocrazia da velocizzare, c'è soprattutto da rifare il sistema fiscale. Mi ha fatto piacere però Prudenzano quando ha rammentato il debito pubblico. Oggi ho chiesto un aggiornamento, sono 2.576 miliardi di euro che sono, se non ricordo male, 5 milioni di miliardi di vecchie lire. Non so se è chiaro il ragionamento. Cioè gli interessi ci mangiano un terzo, un quarto di quello che riusciamo a produrre in un anno. Il che vuol dire evidentemente che è una zavorra pesantissima. Per questo Giorgia Meloni in prima persona ha detto dobbiamo rimettere il debito pubblico quanto più possibile nelle mani degli italiani e di chi di sede in Italia per rimanere sempre meno ricattabili dall'esterno. Altro ricatto che conclude è quello dell'energia. La vicenda ucraina ha dimostrato che noi siamo un paese che non è in grado di produrre ad oggi energia in maniera autosufficiente e siamo sotto schiaffo degli speculatori internazionali. E poi arriva il MIA, Raquel Garzia Alvarez. Sta per arrivare in Italia MIA. A misura di inclusione attiva da settembre vorrebbe rimpiazzare il reddito di cittadinanza restringendo la platia di beneficiari. La soglia dell'ISESI a tende scenderà di oltre 2.000 euro. Significa la perdita del sussidio per una famiglia su tre. Con un risparmio per lo Stato, certo. In più, tra chi povero ha sufficienza avrà diritto al MIA, andrà distinto chi è occupabile e chi no, ritenuto cioè in grado di trovare lavoro o senza possibilità. In questa riforma però il nodo è tutto nei parametri. Per ricevere tutto il sussidio servono o avere più di 60 anni o figli a carico. Lui è Pietro, single, ultra cinquentene, vive al Meridione. Un paesino isolato, non ha neanche la terza media. Bene, per lui il sussidio che oggi prende dallo Stato scende. Lo riceverà per un anno, poi magari altri sei mesi, ma per averlo una terza volta dovrà aspettare un anno e mezzo al verde. Perché non avendo figli e con meno di 60 anni, secondo le nuove regole, se sono oltre dieci anni che non lavora, vuol dire che in fondo di lavorare non li va. Invece Flora Trentotenne, Milanese, un figlio adolescente, pur avendo frequentato l'università e con un bel po' di esperienza professionale alle spalle, è considerata non occupabile. E sì, per lei nessuna difficoltà per mantenere l'importo del vecchio sussidio, perché ahimè, con un figlio minorene dicono che non lo puoi proprio trovare il lavoro. Benvenuto Antonio Monda, scrittore e giornalista in libreria con Il numero è nulla, un romanzo edito da Mondadori. Ne parleremo, un romanzo molto forte, anche nuovo per alcuni tratti rispetto alla sua storia narrativa, ma non possiamo non chiederle un'opinione su quanto è discusso per tutta questa serata. La vicenda degli immigranti, lei è un'esperienza americana molto lunga, ha conosciuto diversi esponenti di culture molto alte. Cosa pensa? Se posso permettermi di leggere una cosa, la risposta non la do io, ma la dà Emma Lazarus, che è la poetessa che ha scritto la poesia che è ai piedi della Stato della Libertà. Siccome la sto raccontando, questa storia spesso, voglio citarla bene per evitare errori. L'America in cui mi riconosco e che vorrei che fosse anche l'Italia, in cui mi riconosco è questa. A me date i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite, desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate. Mandatemi loro, i senza tetto, gli scossi dalle tempeste, e io solleverò la mia faccola accanto alla porta dorata. Questo è scritto sulla Stato della Libertà. Abbiamo il cartello, fatelo vedere così chi avesse perso qualche parola la può ripassare. Allora, il numero è nulla, cos'è? Il numero è nulla, il titolo prende spunto da un verso di Bob Dylan che diceva None is the number, che significa appunto il numero è nulla, ma prima dice ancora Black is the color, il colore è nero. Mi ha sempre colpito questo verso così apocalittico, sembra di leggere San Giovanni, non lo so. È un mondo disperato, cupo, perché è la storia di un killer, che però nel corso del suo percorso esistenziale incontra qualcuno che gli cambia la vita. Dal nulla, dalla concezione che nulla significhi nulla, scusate, che la vita significa nulla, capisce che invece non c'è nulla che significhi nulla. La domanda è in sottofondo una storia bella, ora ne parleremo in alcuni tratti, molto avvincente, però è sempre possibile cambiare fondamentalmente? Assolutamente sì, basta saper ascoltare, basta saper vedere e non solo guardare. accorgersi di chi sia vicino e di cosa sia davanti. Senta, ci sono anche personaggi esistiti realmente, Bugsy Siegel, chi era? Bugsy Siegel era un criminale, su questo non c'è dubbio, ma aveva anche la vision, cioè la capacità visionaria di interpretare il futuro e in qualche modo forgiarlo. È stato l'inventore di Las Vegas. Nel padrino c'è un personaggio che è ispirato a lui che si chiama Mugrin, forse non lo ricordi, viene ucciso. Come venne ucciso Bugsy Siegel dal suo capo, Mayer Lansky, perché non riusciva a saldare i debiti che aveva contratto per investire nel Flamingo, il primo grande albergo di Las Vegas. Il numero nulla viene utilizzata come frase dal protagonista in un momento che ne rivela il suo potere. Esattamente, giocando alla roulette, perché Bugsy Siegel va a giocare mettendo una puntata enorme e poi chiede al croupier di non dare le vittorie a nessuno perché il numero è nulla, nessuno può vincere, è lui che decide anche sulla sorte. Il numero e il fato sono nelle sue mani. Dunque, il serial killer si chiama Il Vescovo, o almeno viene chiamato Il Vescovo. Perché? Perché aveva un padre molto pio e religioso che sperava che lui facesse la carriera ecclesiastica. Gli diceva che sono chiamati eccellenza, ma tutti portavano rispetto. E lui il rispetto se lo conquista, ma in realtà terrorizzando e uccidendo. Nasce quindi dal male, nasce dal nulla, e forse però arriva in una situazione con almeno uno spiraglio di luce. Anche perché nel romanzo troviamo religione, il credere, canti di chiesa, credenti che affrontano il dolore della vita con l'accettazione. Dall'altra parte la freddezza dell'assassino, no? Questi due mondi descritti molto bene possono convivere? Convivono sempre, non solo possono convivere. Drammaticamente. Non solo il male e il bene convivono sempre, ma anche a chi non ha la fede, il richiamo di quello che è retto, di quello che è sano, di quello che è giusto, c'è sempre. Ripeto, bisogna saperlo vedere, ascoltare e catturare. E arriviamo da dove siamo partiti, cartello 50, la New York che le descrive è la capitale del mondo ancora. Totalmente, è la città dove o qualcosa nasce o passa sempre. Certamente è una città ferita, soprattutto dalla pandemia, e prima ancora dall'11 settembre, dalle crisi economiche. È una città con una brutta cicatrice, ma delle volte, una cosa che ho avuto il privilegio di apprendere dai Livi Zell, le ferite più forti sono quelle che rinsaldano la fede. E così vale anche per questa città. È una città ferita che è diventata ancora più forte. Antonio Bond, il numero è nulla, grazie per essere stato con noi in Volca al Lupo per il tuo lavoro. Noi ora facciamo una piccola pausa e poi arrivano i giornali di domani con Laura Gobetti. I giornali di domani, Laura Gobetti. Partiamo subito con il Corriere della Sera, che titola così USA, Russia, alta tensione, e qual è l'argomento? L'argomento è la collisione, la dinamica ancora non è chiara, tra un drone degli Stati Uniti e un caccia russo. Quello che si sa è che il drone è caduto, non si sa appunto, dicevamo ancora, perché la dinamica non è chiara, però che cosa c'è stato? Un confronto tra Russia e Stati Uniti attraverso le ambasciate. Anatoly Antov, l'ambasciatore russo, è stato ricevuto dal Dipartimento di Stato americano, un colloquio durato circa mezz'ora. Che cosa si è detto in questo colloquio? Fondamentalmente è che la Russia aveva avvisato agli Stati Uniti che era una zona di manovre militari, quindi quasi chiedendo di non entrare in quella zona aerea. Il drone invece è arrivato proprio in quella zona. Poi però, dice Antov, noi non vogliamo alcuno scontro tra Stati Uniti e Russia e ha detto anche che non si è parlato di conseguenze di questo scontro, ma sicuramente la tensione rimane molto alta. Invece sul fatto quotidiano per occuparci di immigrazione. Lo facciamo attraverso il titolo del fatto quotidiano, russi e sbarchi, governo smentito pure dei servizi. I servizi è un report di 15 giorni fa, applicata Wagner in influente, dicono. Mentre quali sono le vere cause secondo il fatto quotidiano? Crisi energetica in Maghreb per guerre e sanzioni e gruppi criminali in Libia. Naturalmente la lettura diversa è quella del giornale, che invece titola così Bomba immigrazione e prove contro la Wagner, Italia chiama la Nato. Sempre sulla questione il mattino, allora per quanto riguarda la Wagner e le ingerenze sull'immigrazione, i miliziani fino a Putin dietro le partenze, dossier del 007, così la Wagner destabilizza il continente, ma il titolo sull'Unione Europea, avanti con i rimpatri, questa sarebbe la linea dell'Unione Europea. Su Repubblica invece un altro argomento di cui si è parlato molto, famiglie gay no della destra, cosa è successo? C'è arrivato lo stop da parte della Prefettura e i sindaci che finora hanno riconosciuto i figli delle coppie dello stesso sesso, la Procura dice che non si può più fare, i sindaci erano intervenuti di fatto su un vuoto legislativo. Il sole 24 ore, l'ultimo argomento di oggi che vi preoccupo, un po' casegrino che è del Parlamento Europeo, via libera della dirittiva, cosa deve accadere? Entro il 2030 gli edifici devono essere riqualificati, la classe energetica minima, la classe E. Grazie Laura, Ora non resta che ricordare che fino al 18 marzo, con chiamato sms al 45590, potete sostenere il progetto di azione contro la fame per aiutare donne, uomini e bambini a ricostruire il proprio futuro. Ci vediamo martedì. Ale.